buongiorno a tutti per questa occasione un po' particolare lunedì sarà la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili argomento di particolare interesse multispaccettato e quindi è per noi oggi un'occasione molto singolare poter avere dei relatori davvero esperti su questo argomento e che io ringrazio in questa mattinata avremo la professoressa livia ortensi che lavora all'università di bologna l'alma mater di mologna che ci descriverà il contesto sociologico generale di questo problema mentre la professoressa antonina argo dell'università di palermo affronterà gli aspetti giuridici essendo ordinaria di medicina legale successivamente affronteremo la parte le implicazioni cliniche le implicazioni ostetriche con la dottoressa barbara gruela dell'ospedale san paolo di milano e infine le implicazioni ginecologiche con la dottoressa jean min albulkadir responsabile dell'unità urgenze di ostetrice ginecologia dell'ospedale universitario di ginevra do quindi il benvenuto alle nostre relatrici do il benvenuto a chi ci sta seguendo siamo già un numero cospicuo vedo e do quindi la parola alla professoressa livia ortensi grazie molte per aver accettato il nostro invito e grazie a voi per per l'invito spero che mi vediate mi senti mi sentiate ma non la vediamo eccoci qua adesso la vediamo adesso provo anche a condividere il mio schermo allora io vi ringrazio molto per questo invito perché sono molto contenta che ci sia anche un'attenzione io sono una demografa e quindi sono sempre molto contenta di poter lavorare e trattare questo tema con un'attenzione multidisciplinare noi in generale siamo quelli che danno i numeri rispetto al tema delle mutilazioni genitali femminili e essendo un tema molto complicato è spesso difficile trattarlo da un punto di vista quantitativo noi abbiamo un forte scambio e anche insomma ci confrontiamo in modo molto molto animato con chi ha un approccio molto qualitativo al problema perché ci rendiamo conto che è difficile cioè quando si dice ma questi dati voi come li prendete cosa cosa ne fate e quindi io oggi prima di poi cedere la parola ai colleghi che completeranno tutto il resto del quadro volevo raccontarvi un po' un po' come sono come anche come sono prodotti i dati per farvi capire quando voi sentite dei numeri che cosa c'è dietro quel numero come va letto perché spesso anche i numeri vanno presi con un pochino di come dire senso critico e darvi anche un quadro di quello che raccontano le indagini che sono state fatte in italia sulle migranti rispetto alle mutilazioni genitali femminili per aiutarvi a immaginare ogni volta che vi trovate davanti a una famiglia una donna dei bambini che arrivano da paesi a pratica mutilatoria avere un'idea di quello che può essere il contesto rispetto alla pratica prima di iniziare volevo volevo dire che tutti i lavori che che andrò a citare sono frutto di un lavoro di gruppo insomma che va avanti da moltissimi anni in team anche con l'università degli studi di milano di cocca da cui io dove io mi sono formata e in particolare con la professoressa patrizia farina che è stata la prima che ha guidato la primissima indagine che è stata fatta nel 2010 sulle mutilazioni genitali femminili in lombardia allora di cosa parliamo intanto partiamo dal dall'aspetto macro non adesso io vi do una definizione di mutilazioni genitali femminili ma poi le colleghe entreranno nel merito per quel che riguarda un po gli aspetti che tratto io che hanno a a fare con i diritti umani e con la con la con le con le pratiche noi definiamo mutilazioni genitali femminili tutte quelle forme di alterazione dei genitali delle bambine e delle donne che avvengono per motivi che non sono medici e la pratica è considerata una delle molteplici forme di violenza sui bambini ed è una pratica lesiva dei diritti umani quindi che ha delle profondissime conseguenze sul piano fisico psicologico e può portare anche alla morte da dove arriva questa pratica questa pratica ha origini antichissime spesso si pensa che sia legata alla religione ma in realtà arriva prima nasce prima del dell'islam prima del cristianesimo quindi sono pratiche che hanno origini antichissime e che continuano appoggiarsi e trovano la loro il loro motivo di andare avanti nella disuguaglianza di genere che per vale tutte le società e in particolare le società dei paesi a pratica mutilatoria cominciamo a parlare dei numeri che sono una parte che come dire è proprio il mio il numero che gira che voi sentirete qualsiasi sito andate a consultare vi dirà almeno 200 milioni di donne e giovani hanno subito una mutilazione io insisto sempre su questo almeno nel senso che si tratta sicuramente di una sottostima perché perché si tratta di a parte che non è neanche più aggiornatissima è lo stesso numero che gira da almeno 10 anni ma soprattutto è un numero che si basa sui dati relativi a solo 31 paesi e perché 31 paesi perché sono gli unici paesi per i quali noi abbiamo delle indagini campionari a livello nazionale di ottimo livello dati di hs o dati unice che hanno un modulo dedicato alla mutilazione genitale femminile e che da qui possiamo tirare fuori estrarre delle stime come sono fatte queste stime si tratta di autodichiarazioni quindi anche lì noi ci fidiamo di quello che dice la donna che viene intervistata è possibile che soprattutto ora che molti paesi hanno implementato delle leggi che vietano le mutilazioni genitali femminili ci sia anche una componente di under reporting cioè di persone che invece hanno subito la pratica ma non lo dicono all'intervistatore per cui voi immaginate ci può essere una componente di under reporting e solo alcuni paesi questo numero è sicuramente un numero per difetto tanto è vero che quando è stata aggiunta la dato per l'indonesia che uno dei paesi più più grandi al mondo dal punto di vista demografico il numero di donne stimato è diventato molto maggiore perché perché mancava questo paese ce ne sono molti altri si stima che la pratica esista magari anche solo in delle minoranze in almeno 92 paesi al mondo per cui potete immaginare noi ne abbiamo informazione solo su 31 magari più rilevanti ma insomma è chiaro che ci perdiamo moltissimo si stima che ogni anno bambine e ragazze siano a rischio di questa pratica e per quanto ci sia un percorso in moltissimi paesi verso l'abbandono di questa pratica anche solo la pandemia ha interrotto moltissimi programmi di prevenzione di sensibilizzazione e quindi per esempio tutte le volte che succede qualcosa che porta a una perturbazione dello status quo che può essere la pandemia covid ma può essere anche in questi paesi una guerra l'inizio di un'instabilità politica tutto questo può rallentare il percorso verso l'abbandono della pratica l'abbandono della pratica che è anche uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile c'è una cosa che anche qui bisogna che può essere controintuitiva per chi non è magari esperto di popolazioni noi diciamo che in tutti questi paesi o in molti di questi paesi c'è una tendenza a lasciare andare questa pratica cioè di generazione in generazione la proporzione di donne che subiscono mutilazione genitali femminili di bambine nelle nuove generazioni è sempre minore eppure il numero assoluto di donne che che poi sono sottoposte a questa pratica cresce com'è possibile questo è possibile perché questi paesi stanno crescendo demograficamente tantissimo mentre il nord del mondo noi siamo ormai nella piena diciamo in un percorso di di riduzione della nostra popolazione gli italiani saranno sempre meno perché invecchiano perché si fanno pochi figli insomma questo lo lascio per una questione prettamente demografica ecco la demografia dei paesi eh in cui si pratica mutilazione genitali femminili è esattamente l'opposto della nostra sono i paesi tutta la la praticamente tutta la crescita della popolazione futura noi diventeremo dieci miliardi di persone avverrà nel sud del mondo e in molti paesi a pratica mutilatoria quindi anche se eh di generazione in generazione la proprio la 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 percentuale di donne eh che subiscono questa pratica scende siccome le donne sono tantissime sempre di più il numero assoluto di vittime va a crescere per cui per quanto noi ed è una questione di proprio di inerzia demografica quando questi paesi poi rallenteranno eh l'insieme delle due tendenze meno eh meno pratica nelle generazioni e generazioni che si riducono porterà poi una riduzione ma in questo momento il trend ci dice che per quanti sforzi noi eh possiamo fare il numero di vittime eh andrà comunque a crescere inoltre in tutti i paesi stanno eh riducendo la loro eh il stanno intraprendendo questo cammino nello stesso modo se qui se noi andiamo a fare eh una eh andiamo a vedere la generazione delle madri le generazioni delle figlie vediamo che qui sulla linea eh diciamo eh tratteggiata eh chi sta nella linea tratteggiata vuol dire che la la prevalenza tra madre e figlie è esattamente la stessa vedete che in realtà eh la prevalenza delle figlie tende a essere inferiore però ehm ci sono paesi dove eh la distanza tra madre e figlie è è poca e guardate ci sono poi paesi che in cui la proporzione di donne è ancora altissima tra cui poi lo vedremo eh paesi che sono molto ehm che sono tra i principali eh in vie che da qui arrivano i nostri principali flussi migratori per esempio l'Egitto o la Nigeria anche della Nigeria parleremo perché questo eh quindici trentacinque è un po' diverso da quello che noi osserviamo in Italia e anche vedete la percentuale per l'Egitto è altissima praticamente universale eh per le donne in età quarantacinque quarantanove eh e scende eh a comunque quasi al settanta per cento nella generazione quindici diciannove quindi comunque eh anche in paesi dove ci sono eh dei guadagni la se si parte da livelli di prevalenza molto alti è chiaro che la strada da percorrere molto di solito gli indicatori sono lo status delle madri e delle figlie e l'intenzione di continuare la pratica anche qui abbiamo eh paesi in cui comunque eh anche se eh se eh la eh se se ci sono dei 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 miglioramenti l'intenzione delle donne e degli uomini di continuare la pratica è comunque molto elevata guardate la Guinea guardate il Mali eh o anche la Mauritania cioè la ci sono eh donne e uomini che supportano molto la pratica e quindi eh la pratica è destinata a ehm continuare nelle generazioni eh facciamo arriviamo subito all'Italia che è un po' eh l'aspetto che ci interessa di più eh perché a un certo punto si è cominciato a parlare di mutilazioni genitali femminili in paesi dove questa pratica tra gli autoctoni come noi li chiamiamo non esiste eh perché dagli anni novanta l'Italia è diventato un paese di immigrazione e quindi ehm piano piano sono arrivati eh persone da questi paesi e successivamente direi perché la maggior parte della eh dei paesi a pratica mutilatoria ha avuto un pattern di migrazione che vedeva arrivare prima gli uomini questo tipicamente per i senigalesi per gli egiziani eh tutto quella parte di mondo eh ha una migrazione ha una prima migrazione tipicamente maschile seguita poi da ricongiungimenti familiari quindi diciamo non è non è successo subito ma dai primi anni novanta sono arrivati eh delle persone degli uomini eh a lavorare in Italia questi a un certo punto hanno cominciato a fare ricongiungimento familiare che tipo di migrazione quindi portare donne donne che eh da una parte potevano avere eh prima di migrare essere state eh vittime di mutilazione genitari femminili e poi questo apre tutto un discorso sulle seconde generazioni cioè sulle bambine che eh o vengono ricongiunte in Italia o che nascono in Italia che succede a queste bambine che tipo di eh di migrazione vediamo noi da questi paesi abbiamo come vi dicevo prevalentemente ricongiungimenti familiari eh da alcuni paesi per esempio la Nigeria da alcuni paesi dell'Africa subsahariana abbiamo anche migrazioni indipendenti sono meno meno frequenti da questi paesi rispetto a altre provenienze immaginatevi l'America Latina o l'Est Europa è moltissima migrazione indipendente femminile da questi paesi è meno frequente però esiste eh c'è tutta una questione rispetto alle richieste di protezione e asilo pensate eh gli arrivi dalla dalla Somalia dall'Eritrea dall'Etiopia questi sono tutti paesi dove c'è un forte anche eh ingresso di persone che eh eh richiedono protezione e asilo eh con tutto il viaggio in mezzo tutto quello che può succedere a una persona che magari arriva eh solo una minima parte arriva da canali sicuri quindi c'è tutto anche un tema di vulnerabilità che si che si che si sommano quindi migrazioni eh faticose migrazioni che portano nuovi traumi ehm per chi arriva tramite un un attraversamento del deserto sul barcone con mutilazione genitale femminile voi capite che ehm le cose si complicano eh e si complicano ancora di più se come per alcuni paesi che sono prevalentemente la Nigeria e la Costa d'Avorio c'è anche tutto un discorso di eh trafficking e sfruttamento sessuale. Trafficking dalla Nigeria è stato un fenomeno che è stato molto rilevante fino da alcuni anni fa fino prima del covid diciamo tutte le quasi tutte le donne che ehm che arrivavano sulle sui barconi insomma chiamiamoli così sulle eh che sbarcavano in Italia erano quasi tutte nigeriane una buona parte e moltissime si sapeva benissimo che erano vittime di sfruttamento sessuale. Dopo la pandemia ha cambiato un po' eh questo genere di flussi adesso però eh si è attivato un flusso che è quasi sostituito quello delle nigeriane che arriva dalla Costa d'Avorio che è un altro paese a pratica mutilatoria. ehm se noi consideriamo però il panorama delle donne migranti in generale che sono circa tre milioni in Italia la percentuale di donne con mutilazione genitale femminile è molto contenuta perché perché la maggior parte della nostra migrazione arriva dall'est Europa e dal Sud America soprattutto la migrazione femminile quindi ehm questi paesi non sono forse la la fetta più eh più rilevante però se noi cominciamo a guardare le migranti che arrivano solo da paese a pratica mutilatoria la proporzione di donne sale intorno al 62 per cento se consideriamo chi arriva per appunto da paesi in conflitto e quindi tramite i canali di richieste di asilo questa proporzione sale ancora di più. E che cosa succede? Noi abbiamo fatto anche uno studio con un collega qualche anno fa che adesso è invecchiato un po' nel studio del 2016-17 avevamo cominciato e provato a immaginare quante donne eh potevamo immaginarci per anche per un'ottica di programmazione dei 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 servizi e eh appunto eh siccome la demografia di questi paesi è molto eh come dire propulsiva in questo momento eh questo non solo alimenterà nascite e corti di donne ma anche flussi migratori quindi eh siccome eh gran parte di questi paesi sono eh si svilupperanno e non tutti troveranno lavoro nel proprio paese è chiaro che i flussi migratori da questi paesi sono destinati a crescere sospinti dalle nascite e che quindi noi avremo un numero di donne e bambine che entreranno nei prossimi anni nel eh verso la comunità europea destinato a crescere i numeri eh sono destinati a crescere eh che cosa succede? Come facciamo? Qualcosa dobbiamo pensare quando noi abbiamo a che fare con un migrante in relazione alle mutilazioni genitari femminili? La prima cosa da sapere è che la popolazione migrante tende a essere selezionata rispetto ai non migranti quindi chi migra ecco questo è un po' controintuitivo per chi eh magari non conosce bene le migrazioni ma la migrazione è sempre un processo selettivo anche se noi vediamo le persone che arrivano sulle barche che che arrivano qua e sono in difficoltà economica il solo la capacità il poter migrare qualcosa che costa quindi migrano solo le classi medio medio alte di questi paesi che sono indubbiamente paesi più poveri dei nostri ma comunque eh queste persone sono selezionate rispetto a chi non migra eh perché vi dicevo è importante le stime i numeri perché noi quando tutti i numeri che voi o quasi tutti forse tranne quelli che abbiamo prodotto noi ehm sono stime indirette che come si quando voi andate a ehm quando si dice quante donne potrebbero esserci a rischio quante bambine a rischio che cosa si fa tecnicamente di solito se tu non hai un dato un'indagine campionaria fatta proprio sul tuo paese prendi i dati del paese da cui queste persone arrivano eh prendi la stima della proporzione di eh persone con mutilazione genitaria femminile e la applichi alla tua popolazione questo ha ehm l'ipotesi che tu stai facendo nel fare questa stima è che la popolazione non migrante sia esattamente uguale a quella che migra cioè io dico va queste due sono uguali e io li applico la proporzione in realtà noi sappiamo questo non è assolutamente il caso noi abbiamo una grossa selezione rispetto ai migranti selezione che si applica anche allo status di mutilazione genitale femminile perché noi sappiamo eh dalle indagini dei paesi in via di sviluppo che anche nei paesi d'origine la mutilazione genitale a volte è un fenomeno eh universale come abbiamo visto per l'Egitto a volte invece eh dipende molto dal eh dalla classe sociale dall'essere persone che vivono in città dall'essere persone istruite dall'essere persone benestanti eh le persone più istruite che vivono in città e di solito più benestanti sono anche quelle che migrano quindi di solito eh la eh questi fattori concorrono a selezionare una popolazione nelle nei paesi di migrazione che è meno esposta è stata meno esposta alla mutilazione genitale femminile quindi in generale eh quel numero se noi prendiamo il numero del paese d'origine lo proiettiamo teniamo tendiamo a fare un errore di sovrastino ehm questo è vero nella gran parte dei casi ma per esempio non è vero per la Nigeria che è una delle principali dei principali paesi con cui noi abbiamo a che fare perché perché anche la migrazione ha spesso anche degli effetti di territorio magari si migra tutti eh da una determinata area verso un certo paese si si nascono dei flussi migratori e le persone tendono poi a seguire le strade delle persone che li hanno preceduti e quindi che succede eh dall'Italia noi abbiamo un flusso migratorio eh verso l'Italia che arriva da una zona precisa della Nigeria eh una zona dove la prevalenza eh di mutilazione genitale femminile è molto più alta di quella del paese intero oltretutto verso la Nigeria la selezione funziona anche un po' al contrario tendono a essere più eh mutilate le donne più benestanti più istruite più ricche qualcosa che di solito non succede per la Nigeria però eh funziona così questo fa sì che si selezioni si autoselezionino un flusso migratorio di donne dalla Nigeria molto più esposto alla mutilazione genitale femminile di quello che ci direbbero i dati eh del paese da cui provengono questo noi ce ne siamo accorti facendo un'indagine noi stessi prima in Lombardia e poi in Italia eh e all'inizio questa cosa ci aveva anche molto eh molto sorpreso perché ci aspettavamo sempre di avere delle prevalenze più basse e invece per la Nigeria eh bisogna stare attenti perché appunto eh bisogna sapere che eh che i dati prodotti con stime indirette sottostimano il fenomeno eh almeno per per il flusso che viene verso l'Italia eh paesi come la Somalia dove quasi tutte le donne sono mutilate il 98 per cento eh tra le donne del paese d'origine sono ehm c'è molto da selezionare perché anche le donne istruite che vivono in città sono molto molto esposte alla mutilazione quindi si tende ad avere eh proporzioni altissime abbiamo proporzioni altissime eh in Italia anche eh dal Mali, dal Sudan, dal Burkina Faso, insomma ehm all'interno dei singoli paesi eh la proporzione può essere alta. Noi abbiamo stimato al 2018 circa 80.000 persone, 80.000 donne in Italia con mutilazione genitale femminile eh scusate 87.000 di cui eh 7.000, 7.000, 8.000 minorenni. ehm adesso vado un po' veloce su tutta la questione del ehm cosa pensano eh però eh gran parte delle persone eh che sono state intervistate in Italia non sono favorevi alla continuazione della pratica. C'è solo un tredici per cento che eh diceva di essere favorevole, un ulteriore otto per cento se la pratica fosse fatta in ospedale. La questione della eh del come dire dell'ospedalizzazione della pratica è molta dibattuta in letteratura e sappiate meglio di me ehm però ecco eh in realtà ehm questo questo aspetto di selezione tende a selezionare anche persone che poi non supportano la pratica. Lo stare in migrazione fuori dal tuo contesto d'origine tende a oltretutto a staccarti eh a staccarti dal 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 tuo contesto e quindi la migrazione di per sé è qualcosa che abbassa il rischio di eh di di mutilazione nei confronti delle bambine. Ehm perché ehm se si chiede appunto eh se la pratica dovrebbe eh proseguire tendono eh tende a ehm a supportare la pratica chi l'ha subita eh per se stesso che è controintuitivo perché uno dice ma come eh tu hai subito questa pratica e e adesso vorresti farla su tua figlia a me all'inizio stupiva molto questa cosa eh il motivo è che eh chi ehm chi ha subito mutilazione genitale femminile ehm ne ha nella sua comunità un fattore di prestigio eh diventa una c'è tutta una serie di significati che sono legati a questa pratica e se queste donne perdessero quel beneficio che viene dalle dall'aver dallo stare in questo frame di eh di riconoscimento perché tu sei una donna mutilata perderebbero il loro prestigio eh spesso le famiglie mutilano le figlie non perché eh siano pazzi ma perché pensano in modo genuino che quella sia la migliore cosa per le loro bambine. Ovviamente chi è meno istruito tende a sposare questo genere di eh di ragionamento ma eh bisogna capire che c'è dietro un delle migliori intenzioni che eh che vanno un po' nella direzione sbagliata perché si vuole andare avanti eh nella pratica per dare alle bambine migliori prospettive matrimoniali preservarne la verginità che per queste in queste eh in alcune comunità è eh ancora un valore cioè c'è chiaramente tutto un eh un discorso di eh appunto vi dicevo di ehm di disuguaglianza di genere cioè dove la verginità è un l'essere vergine al matrimonio è un plus allora la mutilazione genetale diventa una cosa che le aiuta eh in questa ottica un po' appunto eh che noi non capiamo non riusciamo neanche a capire eh c'è tutto un portato di eh attaccamento alle tradizioni culturali del paese d'origine e trasmettere valori disciplina tutto ciò che si tende si magari si tende si teme di perdere in in emigrazione e ehm e quindi ehm tanto più le persone eh non sono eh come dire integrate tanto più tendono a eh supportare la pratica eh nelle nuove generazioni questo eh più si si migra giovani se si è nati qui eh non c'è si tende le persone si si distaccano da questa pratica eh ma eh chiaramente quando c'è eh eh dovera eh quando c'è in famiglia una una un ci sono donne che hanno subito mutilazione eh genitale femminile supporta alla pratica tende essere eh maggiore tende essere maggiore quando si pensa che eh la pratica sia legata a un una questione religiosa eh se si pensa che il pratica il partner sia favorevole se il se io sono in un contesto chiuso isolato dove penso e le persone pensano che la pratica sia buona per le bambine allora le bambine sono a rischio ehm quindi quali sono i fattori protettivi sono l'empowerment più noi diamo alle donne eh degli strumenti per muoversi autonomamente nella nostra società anche un corso di lingue anche la possibilità di farle muovere sul territorio il fatto che possono andare da sole dal ginecologo tutti questi fattori che a noi sembrano banali ma tutto ciò che rende le donne eh empowered eh aiuta a ehm a distaccarle da tutto ciò che rende le fa vedere la mutilazione genitale femminile come qualcosa di positivo e questo eh tende a ehm diciamo essere protettivo per le bambine eh inoltre appunto eh chi è figlio di una donna che non ha avuto mutilazione genitale femminile a meno che non sia sposato con un padre eh che viene da da questi paesi e supporta la pratica di solito se si ha una madre che non è ehm che non è ehm mutilata non le bambine non sono a rischio per cui eh la la prima cosa da guardare se si è davanti a una famiglia eh che viene da un paese a della pratica mutilatoria è la condizione della madre perché questo già ci dice se noi potenzialmente abbiamo davanti una bambina a rischio oppure no ehm ed è importante anche perché tanto più noi eh interrompiamo eh questa catena tra madre e figli tanto più salveremo tutte eh diciamo fermeremo la pratica nelle generazioni successive quindi tutto quello che noi possiamo fare è prezioso perché ehm va a tutelare eh le bambine che nasceranno eh quindi eh per concludere eh che cosa eh dobbiamo sapere quando abbiamo davanti eh rispetto al contesto diciamo sociologico eh una delle delle donne che vengono da paese a pratica mutilatorio già sapere qual è la probabilità qual è la proporzione di eh di donne mutilate nella loro eh comunità ci dà un'idea eh spannometrica del rischio quindi eh questo è sicuramente utile è uno strumento io lo vedo come non è che io sia eh voglia vendere il mio lavoro ma io credo che sia proprio uno strumento di lavoro eh quindi la probabilità che queste donne eh abbiano subito prima di migrare mutilazione genitale famiglia se l'hanno subita eh io ho davanti una bambina potenzialmente a rischio allora ho bisogno di capire se questa donna è eh quanto più questa donna è istruita tanto più questa donna è eh inserita nella società tanto meno sarà eh il rischio sarà alto però eh questo lo status della madre è eh una cosa assolutamente ehm rilevante ehm io vi lascio poi eh posso poi eh darvi queste slide un elenco di bibliografie essenziali molte cose le saprete ehm in modo da poter eh da potervi lasciare anche uno strumento e qualcosa qualcosa da leggere eh vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente se ci sono domande rispondo volentieri grazie della professoressa ci saranno sì domande io sicuramente ne ho ma le facciamo alla in genere le facciamo alla fine eh di tutte le presentazioni se 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 lei è d'accordo e se lei può arrivare va benissimo sì certo per eh tutta la trasmissione ehm e a questo punto io chiedo alla eh professoressa Antonina Argo eh di parlarci degli aspetti è in linea? Sì eh sono in linea con eh per intanto con il telefonino perché col computer dell'università i due teams di Unipa e Unimi sono entrati eh in conflitto però avevo già inviato le diapositive mi sentite? Sì 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 la sentiamo le nostre prove non sono state sufficienti le nostre prove tecniche io però non sento più vi ho attivato anche il il mi sentite ora benissimo sì la sentiamo Benissimo. E allora, intanto vi ringrazio sinceramente per avere previsto una parte di intervento che riguarda l'area, voi avete detto, giuridica, in realtà io dico medico-legale. Molte delle osservazioni... Mi sentite ancora? Sì, sì, la sentiamo, professoressa. Perfetto, perché qui ogni tanto dà segnali contrastanti. Molte delle osservazioni che sono state poste dalla collega che mi ha preceduto, ovviamente con un focus differente dal mio abito soprofessionale, sono essenziali, fondamentali per comprendere questa realtà dal punto di vista medico, medico-giuridico e soprattutto medico-legale. Ovviamente io ripercorrerò alcuni momenti normativi che hanno dato, diciamo così, un grande impulso all'attività proprio di presa in carico delle donne sul nostro territorio. E soprattutto, questo ci tengo a sottolinearlo, il mio focus sarà anche riferito alla questione della violenza di genere e per le attività che io svolgo quotidianamente all'interno di un ambulatorio di vittime di violenza intenzionale, che è riferito anche alle popolazioni migranti, anche alla presa in carico di queste persone e a seguito della richiesta che ci viene fatta dai corridoi umanitari attivati dallo Stato o dalle associazioni che prendono in carico direttamente nella fase dello sbarco, a diversa associazione, nel diverso ONG e ai CAVS, ci capita sovente di supportare anche a livello certificativo l'attestazione, quindi la valutazione della donna, la certificazione, in un contesto che ha un valore legale, giuridico e che supporta appunto la donna nella richiesta di una tutela internazionale. Questo è un fatto importantissimo, nasce nella nostra realtà operativa dal 2018 grazie a una convenzione che l'Università degli Studi ha svolto riferita a questa attività e poi globalmente ad un'attività di ricerca di terza missione che poi è confluita in un'attività di ricerca che si chiama CIR Migrare nell'ambito di Unipa e poi all'interno di un dottorato Migrazioni, Giustizia che comprende anche gli aspetti di natura medica. Volendo andare con ordine in un contesto che è quello sovranazionale per gli assetti normativi, ed è penso a tutti noi noto, bisogna fermarsi al momento in cui finalmente la mutilazione genitale femminile è in un divieto globale. E quindi il nostro riferimento puntuale è dato sicuramente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012 che prevede una risoluzione che viene anche contestualmente accolta dall'Unione Europea. Se torniamo un attimo indietro alla diapositiva precedente, volevo soffermarmi su i due passaggi che in qualche modo sono stati richiamati in molte delle parole della collega, ma che poi vedremo ricalcati, anche se anticipati nella normativa nazionale, e sono i due momenti che riguardano da un lato la repressione di un fenomeno che viene bandito in quanto oggettivamente non fa parte di nessun contesto di apprezzabile utilità nell'ambito medico, ma l'altro focus molto rilevante è costituito dalla protezione. È stato detto, ma lo dobbiamo ribadire con forza, anche quando noi visitiamo donne adulte, i corridoi umanitari riguardano sia le minori sia le donne adulte, e ovviamente nella maggior parte dei casi il fenomeno riguarda bambine, prima, seconda, terza infanzia e adolescenti, quindi il problema della protezione dei minori è un problema sotto il profilo giuridico assolutamente rilevante. Ma non si è arrivato al fatto di bandire la motivazione genitale femminile come un fatto indolore, assolutamente no. La Convenzione sui diritti del fanciullo, a lungo proprio per l'ostilità che su questo tema veniva posta da parte di alcuni paesi africani soprattutto, vedeva, diciamo così, contrasto a queste ipotesi. Quindi, nonostante fosse chiaro, evidente, pacifico che la protezione del minore dovesse riguardare anche questo aspetto, per lungo tempo nella protezione del minore non è ricaduto. Sotto il profilo della protezione riguardano i modelli educativi, l'intervento educativo, inclusivo, di tutela e protezione riguarda innanzitutto un modello sociale, antropologico e un'operatività che riguarda per esempio la scuola di italiano per stranieri, no? In un supporto globale. Per la parte, diciamo, nostra, di focus nostro medico, di area più medico-sanitaria e professioni sanitarie, riguarda ovviamente il supporto di cure, la presa in carico complessiva e, diciamo, tutto il contesto di delicatezza che non è mai troppa in quest'area, che può consentire di parlarne, di verificarne e di utilizzarle anche ai fini di una certificazione che serva a uno strumento di tutela aggiuntivo e suppletivo per la donna o per la minore di sesso femminile. Andiamo alla prossima diapositiva. Quindi questi sono alcuni passaggi ripresi anche nella risoluzione del Parlamento europeo, una risoluzione stringata, sono due pagine, però anche essa molto significativa. In qualche modo, come vedremo, l'Italia, con un aspetto sanzionatorio di ordine penale, aveva già anticipato molti di questi rilievi. Per esempio, introitando nel dispositivo penale, il fatto che le mutilazioni, già l'utilizzo del termine mutilazione, non è stato indolore, si arriva nel contesto medico a distinguere nettamente la questione della mutilazione e della circoncisione, affatica, l'utilizzo delle parole rappresenta la cesura rispetto ad un mondo che non voleva cogliere questa indicazione. Quindi, riprendendo la questione attraverso la convenzione contro la tortura, le pene, trattamenti crudeli, inumani e degradanti. La questione del degradante non si riferisce soltanto all'invasività che può essere sotto il profilo medico-biologico non particolarmente rilevante in alcuni di questi contesti. Lo vedremo poi, che l'ha recepito pienamente il nostro legislatore. Ma la questione del degradante riguarda un'area psichica, di affettività, di sfera emotiva del soggetto. Qualcosa che un trattamento può essere sotto il profilo medico-sanitario, effettivamente poco invasivo, ma poiché attiene le aree più intime dell'individuo, diventa elemento di vulnerabilità. E se poi riguarda, come chiaramente il legislatore ci rappresenta anche in Italia, la sfera della libertà personale, e la libertà sessuale fa parte di questa sfera di libertà, effettivamente richiama il fondamento della dignità che deve essere preservata in tutte le sue forme. E quindi richiamo la libertà, richiamo la libertà anche di ordine sessuale, richiamo al caposaldo dell'articolo 2 costituzionale. Da qui proviene tutto l'assetto di valori, di indicazioni, diritti personalissimi, inviolabili, che riguardano il nostro albio costituzionale, la persona, non il cittadino. E quindi siamo assolutamente autorizzati ad applicare a tutti coloro che transitano attraverso il nostro territorio, tutte le persone che transitano attraverso il nostro territorio, a maggior ragione se, come riferito dalle convenzioni internazionali, vedremo in una sentenza che ha aperto poi anche la stura a questo tipo di accertamento, il Tribunale di Catania, se sono proprio per questo e ragione di questa attività degradante, inumana, non rispettosa, dei diritti inviolabili, personalissimi, dell'individuo, meritevoli di specifica tutela. Quindi ovviamente c'è tutto un percorso che porta poi ad una prospettiva di eradicazione di questo fenomeno degradante inumano che non potrebbe mai corrispondere ad una libera disponibilità del soggetto proprio perché riguarda nella stragrande maggioranza dei casi soggetti che sono vulnerabili per definizione in quanto minori attraverso una prospettiva di intervento, uno scenario di intervento che dovrebbe, diciamo, entro il 2030, credo che sia questa la data ultima, consentire di eradicare o abbattere significativamente questo fenomeno. E non a caso poi la Convenzione del Consiglio d'Europa, nel volere riallacciare, diciamo così, in una sfera più ampia di tutela di diritto, di contrasto, unifica questa lotta, le mutilazioni genitali femminili, all'interno della violenza contro le donne, la violenza domestica e alla violenza di genere. Il che dal mio punto di vista proprio di medico, di medico legale, per quell'attività che quotidianamente svolgo nell'ambulatorio dell'azienda policlinico e nell'ambulatorio per le sospette vittime di violenza, torture, a me sembra assolutamente coerente, cioè lo vedo oggettivamente in una prospettiva che diversa non potrebbe essere. E mi consente di riunificare, di rivalutare, di considerare tutti questi elementi sotto un unicum che è quella della libertà della persona, del rispetto dei suoi diritti inviolabili. E quindi siamo esattamente in materia di diritti umani. Possiamo andare all'altra diapositiva, continuando a scorrere i punti fondamentali di questa direttiva, ovviamente si specifica, ed è corretto che lo si faccia, la questione che trattandosi di bambine o ragazzine, ovviamente è un vero e proprio abuso sui minori. Qui finalmente si è scavalcata questa censura che veniva posta anche in una dichiarazione sui diritti del fanciullo con il contrasto da parte di alcuni paesi e veniva posta proprio in riferimento a, diciamo così, più o meno precisate motivazioni di ordine culturale che poi radicavano invece in una prospettiva di patriarcato che vedeva ancora nella questione dei figli, né più né meno come era nel diritto latino, un possesso da parte del capostipite maschio rispetto a tutti gli altri individui. Ricordo, perché a noi serve anche in alcuni assetti di responsabilità professionale, ricordo l'immagine del padre, del pater famiglia, che dava la sposa cum mano, trasferiva questo possesso, questa proprietà, da sé ad un altro individuo maschio. Quindi siamo esattamente ancora in quell'alvio che ancora non è erradicato. Quest'immagine a me torna sempre, diciamo così, vivida nel momento in cui visito queste donne o queste ragazze quando vengono alla nostra attenzione attraverso i corridoi umanitari e non solo. E ovviamente c'è tutto il trascinamento di effetti che riguardano il tema globale della salute delle donne, ne parleranno poi penso successivamente le colleghe che si avvicenderanno, quindi io non mi soffermo su questi passaggi, ma anche da questo punto di vista molto la ricerca scientifica, la ricerca sul campo, gli studi, le valutazioni epidemiologiche che hanno fatto per sconfessare il tema di una qualche utilità, di una qualche valutazione possibile, condivisione rispetto alle mutilazioni che rimangono a questo punto solo ed esclusivamente mutilazioni. Andiamo avanti. Ovviamente molte di queste complicanze incidentalmente noi ne osserviamo nelle valutazioni che svolgiamo non per finalità clinica, ma a fianco del clinico per la questione della tutela dei soggetti vulnerabili. E quindi evidentemente, come ci ricordano le rappresentazioni, la cornice internazionale è una rappresentazione esattamente di una disparità di forza, ammantata sotto le più diverse caratterizzazioni di ordine sociale, culturale, latusenso e religioso, il che non è e si arriva ad una previsione di sanzioni efficaci che costituiscano il deterrente e che supportino le professioni sanitarie in tutti i contesti nel divieto a questa attività. Ora, diciamo così, la prospettiva che a lungo ha avuto rappresentazione nella cultura scientifica medica, sanitaria, anche nord-europea, per cui si è detto vabbè, però se vengono effettuate nel contesto di un'area sanitaria si minimizza, anziché, diciamo così abusivamente, da parte alcunché, si minimizza la potenzialità di effetti lesivi, di effetti collaterali, di infezioni ricorrenti, non ha davvero spazio nell'ambito di una rappresentazione veritiera dei fatti, ma soprattutto non deve, non può avere spazio alla luce di quella che è la cornice normativa, sia internazionale, sia soprattutto nazionale. Per cui è un divieto netto, secco, perché non ce n'è nessuna ragione ed è un divieto che fa parte alla questione dei diritti fondamentali della persona. Andiamo alla prossima diapositiva, ora vedremo la nostra impalcatura, ovviamente ho detto la cornice, quella della strategia generale di promozione della così emancipazione femminile, ma volendo anche solo fermarsi al contesto medico-sanitario, è la salute della donna che viene qui in gioco, è salute da considerare a 360 gradi, noi nel contesto medico-legale ce lo ricordiamo e cerchiamo sempre di ricordarci, c'è una prospettiva complessiva di qualità di vita. Certo è, diciamo così, una proiezione ottimistica, qualcosa a cui tendere, ma se non partiamo da una condizione di salute globale come punto di riferimento, come end point primario, non arriveremo via via in gradini inferiori a realizzare qualcosa di concreto a tutela delle donne. Quindi, anche soltanto a volersi fermare al contesto medico-sanitario, il problema è la salute femminile, la salute complessiva della donna. Avanti. Credo che adesso dovremmo arrivare ancora avanti alla nostra nozione. Avanti ancora. Ci sono una serie di interventi. Ecco, il punto conclusivo di questa cornice internazionale è l'approdo anche alla giornata internazionale contro la mutilazione genitale femminile e, diciamo così, l'estensione dell'obbligo a instaurare attività di prevenzione in tutti i contesti. Quindi, questo è un momento simbolico, però estremamente rilevante, che, diciamo così, inquadra all'interno di un carattere complessivo e globale di contrasto alla violenza di genere anche questa fattispecie. Andiamo avanti. e arriviamo così a quello che si è fatto in Italia. In Italia, prima di arrivare alla normativa che costituisce sotto il profilo penale un appendice al tema che già conosciamo delle lesioni personali, bandendo e con pene particolarmente incisive e rilevanti anche la questione della mutilazione genitale femminile, il tema sotto il profilo etico e biogiuridico comincia a palesarsi nel 1998, quindi poco prima, ma con un parere che viene compulsato dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 1998. Questo parere viene formulato sia con riguardo alla circoncisione maschile che alla circoncisione anche relativa alle donne, ai soggetti di sesso femminile, ma anche in questo parere che ovviamente era compulsa, raccoglie diverse sensibilità, alla fine si conclude con una posizione netta di censura e siamo nel 1998, vi riporto soltanto questo passaggio, quella che ancora veniva chiamata circoncisione femminile, già allora in assenza di un dispositivo penale e della cornice sovranazionale che abbiamo visto, non possa essere ritenuta lecita sotto alcun profilo né etico né giuridico. Quindi tutte le sensibilità con le diverse prospettive etiche in tema di qualità, sacralità di vita e così dicendo che confluiscono in questo Comitato che è un organo consultivo fondamentale per il nostro assetto normativo, alla fine concludono pur chiamandola ancora circoncisione impropriamente sotto il profilo medico-sanitario che non v'è alcuna possibilità giustificativa di alcun genere né etico né giuridico. Questo è un passaggio rilevante ed è rilevante perché lo abbiamo raggiunto in Italia nel 1998 quando ancora il consenso internazionale era ancora ben lungi dal poterlo rappresentare. Andiamo alla prossima diapositiva e arriviamo finalmente alla legge consolo del 2006. È una legge forte, è una legge che proietta un impulso penale molto significativo anche perché tocca la questione della si chiamava allora ancora potestà genitoriale ancora tradotta dal codice Rocco non era ancora chiamata responsabilità genitoriale non poteva essere chiamata responsabilità genitoriale perché la riforma del diritto di famiglia interviene successivamente ma possiamo oggi declinare quei passaggi di postestà genitoriale nel senso corretto di responsabilità genitoriale. Quindi una legge forte perché a questo punto ha introitato e utilizzato il termine di mutilazione all'interno delle lesioni personali che arrecano pregiudizio all'integrità psicofisica della persona caratterizzando il reato come un reato di natura dolosa quindi con piena intenzione e consapevolezza da parte del soggetto autore e traccia uno spartiacque definitivo anche se poi si traduce in un impulso in un'attività sanzonatoria minimale sono esigui forse solo uno il caso in cui venga circoscritta la sua efficacia di intervento e però è uno spartiacque fondamentale è una rappresentazione fondamentale di civiltà di uno Stato e tocca e questa è una questione molto delicata anche il punto della revoca della responsabilità genitoriale ovviamente diciamo la casistica che noi affrontiamo nel nostro ambulatorio non riguarda questo tema credo però che in molti casi in molte comunità dove ci sia un affido di minori popolazioni migranti possa toccarsi anche questa questione o anche nella società diciamo così comune possa trovarsi questa fattispecie laddove ci sia un contrasto di posizioni tra figure genitoriali e attività che venga svolta di mutilazione genitale femminile che comunque è sanzionata e di fronte ad una indisponibilità assoluta del bene corporeo del minore non c'è radicamento culturale matrice culturale che possa autorizzare consentire ritenere lecita la formulazione da parte di un genitore di questa richiesta o la volontà di sottoporre a questo tipo di attività quindi il collegamento è molto significativo e avuto e credo che continuerà ad avere sviluppi in questa direzione ma è un collegamento significativo perché poi si raccorda ovviamente all'interno della questione della violenza di genere alla questione dei matrimoni imposti delle violenze sottaciute in contesti culturali che vengono ammantati più o meno di una qualche veste di tradizione culturale che invece né più né meno che violenza agita a mio modo di vedere sotto quella matrice del patriarcato e della potestà e del possesso dell'altro andiamo avanti vediamo alcuni passaggi della legge e questo è un caso diciamo che un po' ha fatto storia si trattava di una bambina nigeriana la bimba siamo nel 1997 prima dell'avvento della nostra legge che altrimenti sarebbe stata trattata diversamente nel 1997 una bimba nigeriana aveva subito mutilazione genitale nel paese rientro in Italia quindi i genitori effettano mutilazione all'estero la bambina era stata ricoverata per un ascesso nella zona genitale il tribunale minorile di Torino emise un provvedimento di allontanamento della bambina dai genitori ma dall'indagine che ne seguì risultò una relazione familiare positiva la mediatrice culturale a cui era stato affidato il caso spiegò che per le consuetudini dell'etnia dei genitori le donne non sottoposte a mutilazione genitale femminile rischiamano di non trovare marito ed erano malviste la bambina venne quindi riaffidata ai genitori la vicenda del 1997 siamo anticipatamente siamo indietro rispetto al 1998 momento in cui il Comitato Nazionale di Bioetica che è un organo consultivo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri traccia quello spartiacque né eticamente né legalmente accettabile e siamo ben indietro rispetto al 2006 e quindi in questo contesto ancora era ammissibile che la potestà genitoriale comunque non venisse definitivamente o transitoriamente rimossa per questa fattispecie e questo è il caso diciamo un po' che ha fatto scuola e che viene ancora commentato sotto vari profili dai nostri giuristi avanti siamo agli ultimi passaggi e un aspetto particolare e l'ho sottolineato in più punti perché ho fatto riferimento all'attività che praticamente noi qui in ambulatorio nell'assetto del CIR migrare e del nostro dottorato svolgiamo una sentenza interessante del Tribunale di Catania facendo riferimento a questo decreto legislativo 251 del 2007 ha riconosciuto questa donna nigeriana e quindi la questione viene poi estrapolata a tutte le possibili tutti i possibili beneficiari di questa indicazione a cittadini di paesi terzi e apolidi della qualifica di rifugiato di persone altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta nella pratica quotidiana che noi svolgiamo l'ho detto o persone che vengono in Italia attraverso i corridoi umanitari per esempio per condizioni veramente di specifica vulnerabilità le attività governative compulsano affinché arrivino direttamente da strutture ospedaliere da ambienti sanitari o da campi di prigionia moltissime sono ragazze sono ragazze giovani o poco più che bambine in questi casi diciamo la la richiesta di valutazione della sussistenza effettiva e di certificazione della mutilazione genitale femminile è pressoché immediata è una certificazione che ci viene richiesta per così dire a vista proprio perché immediatamente consente di avviare un percorso di trattamento rapido e di presa in carico complessivo di estrema cura dei bisogni totali della persona quindi dal 2007 siamo nel 2023 questo percorso di tutela umanitaria devo dire almeno per quella che la mia esperienza negli ultimi 5-6 anni si è perfezionato si è robustito lo si conosce di più e viene diciamo così richiesto con molta più frequenza come vivono le donne questa nostra valutazione questa visita le donne tutte sia le minori sia le maggiorenni io devo dire soprattutto per le donne giovani per le poco più che bimbe le post puberi e le adolescenti c'è anche vergogna difficoltà nella visita noi abbiamo anche per questa certificazione medico-legale diciamo così il supporto è costantemente col mediatore culturale e con una psicologa e con personale sanitario e quindi diciamo l'equipe è strutturata in questo senso in questa dimensione anche per la certificazione medico-legale che non è presa in carico clinica la vergogna c'è la vergogna c'è la percezione anche tangibile dell'essere stato privato di qualche cosa forse non riesco nemmeno a rappresentarla con parole congre di trovarsi qualcosa nel corpo che probabilmente non avrebbe dovuto realizzarsi ecco questa è la percezione e c'è molta vergogna da parte delle bambine poco più che bambine delle donne giovani nelle donne più adulte talvolta anche rassegnazione talvolta anche rassegnazione però quel circuito di trasferimento femminile di cui parlava la professoressa prima è un circuito importantissimo di valutazione della persona di familiarità di trasposizione di intervento la donna adulta rispetto alla donna minore che deve essere tenuto in considerazione e andiamo avanti così rapidamente vediamo alcuni passaggi di questa legge ovviamente la legge si riconduce in radice all'articolo 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del corpo quando cagione una diminuzione permanente dell'integrità fisica non siano contrarie a legge ordine pubblico al buon costume non interessa ovviamente la diminuzione permanente dell'integrità fisica non giustificata in alcun modo ad alcuna utilità di ordine terapeutico anche di tipo lata perché non rientra in alcun modo non può rientrare in alcun modo la mutilazione genitale femminile nell'alveo della indicazione di salute secondo l'organizzazione mondiale della sanità che poi viene diciamo così calata tal quale nel nostro articolo 32 costituzionale andiamo avanti e questi sono diciamo gli assetti così importanti della legge che hanno toccato la questione dell'offesa dell'integrità psicofisica alla persona che è il concetto di lesione personale chiunque in assenza di esigenze terapeutiche cagiona mutilazione degli organi genitali femminili punito con la reclusione da 4 a 12 anni quindi pene sanzioni molto rilevanti certo non applicate ma costituiscono quell'ottica propositiva di deterrente significativo e un aspetto importante di questa legge che è stato molto commentato è il fatto che si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali fine clitori dettomie scissione infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo i fini commentatori dell'ordinamento penale hanno sottolineato poi che non essendo così specifico e tassativo quest'ultimo passaggio dell'articolo 1 potrebbe cadere in contraddizione con se stesso il diritto penale deve essere sempre passativo sì ma il punto a cui vuole tendere l'articolo è comunque di mettere al riparo da tutte le possibili manipolazioni dell'area genitale femminile che non abbiano che non rechino con sé nessuna giustificazione di ordine medico sanitario e poiché diciamo così l'assetto delle lesioni personali è comunque un assetto libero non è vincolato nel mezzo nel modo ci sta perfettamente quindi questa critica all'ordinamento è stata poi rimossa andiamo avanti andiamo avanti la condotta materiale e ovviamente un altro aspetto di assoluta rilevanza perché queste sono comunque sono comunque addendum agli articoli del codice penale che parlano di lesione personale è la possibilità di determinare malattia nel corpo o nella mente quindi tutto ciò che riguardi la sfera psichica di affettività di emotività della persona è comunque un impulso a sostanziare di alterazione di compromissione è comunque un impulso a sostanziare il concetto di lesione personale quindi tutta quella alterazione del vissuto dell'abitus emotivo della persona a seguito della mutilazione se anche non arrecasse fenomeni controproducenti di ordine fisico in tema di salute ricade comunque nell'alterazione emotiva e quindi della libertà della persona ricade esattamente in questo contesto avanti ci sono poi le sanzioni che riguardano pene aumentate di un terzo quando le pratiche sono commesse a danno di un minore o se il fatto è commesso per fini di lucro i fini di lucro ci sono nelle attività illecite più o meno chiari più o meno patenti ma ci sono nella maggior parte dei casi riguardano i minori per i fatti accertati nel momento di commissio delitti e un aspetto che invece è assolutamente criticabile è la conoscenza o conoscibilità della minoretà da parte del reo beh è chi si appresta a compiere un'attività se anche si tratta di un'attività potenzialmente o necessariamente illecita come nella fattispecie ha dinanzi a sé la possibilità di conoscere con determinatezza l'età del soggetto e quindi anche questa velata censura alla nostra legge penale è comunque decaduta istantaneamente quindi chi non si accerta dell'età affettiva del soggetto ricade nell'incremento di un terzo della pena avanti e vi sono poi questo è l'aspetto rilevante le sanzioni contro esercenti di professione sanitaria per questi delitti si prevedeva la comunicazione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri ma ovviamente nulla vieta anzi che nella nuova riorganizzazione degli ordini e collegi professionali che riguardano per esempio tutte le professioni sanitarie a diretto contatto col pubblico ci sia la previsione pressoché ovvia di un trasferimento di questa nota di sentenza penale o anche nella fase di accertamento del fatto al collegio di riferimento delle professioni sanitarie quindi andiamo avanti andiamo all'ultima diapositiva per le questioni commesse all'estero vi è la possibilità attraverso l'intervento diretto del ministro di grazia e giustizia di sanzionare penalmente questi interventi quindi volendo trarre le conclusioni sotto un profilo che più che giuridico è proprio medico-legale per le attività che in contesti specifici di accertamento medico-legale si possono svolgere si può trarre rispetto alla questione della mutilazione genitale femminile i valori in gioco che sono sempre il punto di coerenza e di riferimento per la nostra valutazione che è una valutazione terza per definizione la valutazione medico-legale è sempre terza deve essere sempre terza è il valore della libertà e della dignità della persona così con questa cornice di riferimento noi non ci dispostiamo e abbiamo come dire un punto fermo una stella polare dalla quale non dobbiamo mai difettare la tutela della mera integrità fisica nella prospettiva della cura e della prevenzione sanitaria è un obbligo ma mi viene un obbligo anche il riferimento al concetto proprio di lesione personale che è riduzione dell'integrità psicofisica della persona e poi più recentemente ma ci troviamo perfettamente su questo raccordo per le attività che svolgiamo quotidianamente negli ambulatori medico-legali in tema di contrasto alla violenza di genere è da inquadrarsi come attività di contrasto alla violenza di genere da tutti i punti di vista e da qualunque articolazione angolatura la si voglia considerare e bene io ho finito grazie e poi aspetto le vostre domande grazie professoressa Argo le domande appunto come dicevo prima generalmente sono riservate alla fine delle presentazioni quindi se lei è disponibile ad attendere il termine dell'incontro faremo le domande tutte insieme se va bene e quindi invito la dottoressa Barbara Guiella dell'ospedale San Paolo a parlarci delle implicazioni ostetriche delle mutilazioni genitali femminili prego buongiorno a tutti buongiorno professor Vercellini vi ringrazio per questa opportunità e ringrazio la dottoressa Merli che mi sta supportando da un punto di vista di trasmissione delle slide che non riesco a condividere la prossima per favore io presento innanzitutto l'attività del nostro centro il centro di salute ascolto per le donne straniere e i loro bambini dell'ospedale San Paolo che è attivo insieme a quello del San Carlo oramai dal 2000 e siamo dal 2015 centro di riferimento regionale per la diagnosi la cura e l'accompagnamento delle donne con una qualche forma di mutilazione genitale femminile ovviamente non lavoriamo da soli la prossima per favore il centro di salute ascolto che appunto è un'esperienza nuova era nuova sicuramente nel 2000 perché era un nuovo assetto che appunto si occupava della salute e si occupa della salute a 360 gradi delle donne migranti è un'esperienza spedaliera costituita da un'equipe tutta femminile attualmente multiculturale che prevede oltre le professioniste del corpo e quindi ginecologhe ostetriche specializzande le professioniste della psiche quindi psicologhe e del sociale sempre affiancate dall'azione delle migliatrici ministro e culturali abbiamo e manteniamo da 23 anni oramai a questa parte appunto il cosiddetto dispositivo gruppale che soprattutto quando ci occupiamo di salute a 360 gradi della donna migrante è sicuramente un dispositivo più consono a creare un'alleanza terapeutica con queste donne proprio perché permette di mediare fra le culture in ambito sanitario e non fra le culture occidentali e tradizionali di far circolare appunto diverse rappresentazioni del problema come potete vedere appunto sicuramente il ruolo principale è svolto dalle nostre mediatrici che non sono mere traduttrici ma sono proprio mediatrici di cultura e nell'ambito della tematica delle mutilazioni genitali femminili sono la figura cardine perché sostanzialmente ci permette di dire cose che noi per proprio anche una difficoltà nell'elaborazione del controtransfer molto spesso ancora oggi non riusciamo a dire quando ci approcciamo a questa problematica siamo ginecologhe non solo specialiste ma grazie alla scuola di specialità ci affiancano nel nostro lavoro quotidiano e specializzande che io ringrazio perché diventano via via più esperti quindi poi quando si specializzano possono un po' trasmettere il nostro modello di lavoro e di intervento una di noi è anche sessuologa e sta iniziando e ha richiesta di fatto esegue consultazioni sessuologiche nelle donne affette da qualche forma di mutilazione genitale femminile l'ostetrica assistente sociale la psicologa e cosa importantissima nell'ambito dell'equip sono anche presenti una pediatra una psicomotricista questo perché ci occupiamo anche dei bambini e delle bambine almeno per il primo anno di vita ma in situazioni particolari come possono appunto essere le bambine nate da mamme mutilate che possiamo considerare poi a rischio di subire la pratica anche per un periodo superiore siamo all'interno di un ospedale ma ovviamente non lavoriamo da soli e abbiamo imparato che quando ci approcciamo alla tematica delle mutilazioni genitali femminili l'unione fa la forza per cui ci siamo aperti tantissimo ai consultori dove abbiamo cercato anche grazie alla presenza delle mediatrici di trasmettere di condividere un po' la nostra metodologia di lavoro collaboriamo con altre strutture ospedaliere e ringrazio voi e ringrazio il dottor Brambilla con cui abbiamo iniziato una forma di collaborazione proprio per permettere alle donne mutilate che si approcciano non solo alla semplice infigulazione ma anche a un discorso ricostruttivo di avere ovviamente l'intervento e la procedura più adeguata è difficile lavorare in gruppo è faticoso ma crediamo ancora in questo modello che oramai non si può più considerare un modello sperimentale la prossima per favore questi sono i nostri dati che sostanzialmente ci dimostrano che siamo un centro di riferimento ma i dati sono abbastanza significativi rispetto alla prevalenza di mutilazione noi seguiamo ogni anno prendiamo in carico un numero compreso fra i 350 e i 550 nuove donne l'anno quest'anno è il primo anno 2022 dove siamo ritornati a crescere con più di 550 donne dopo effettivamente una lieve riduzione legata sostanzialmente alla pandemia come possiamo osservare in un periodo ampio che va tra il 2010 e il 2021 il 50% delle donne afferenti al nostro servizio provengono da paesi a tradizione mutilatoria nel 36% di queste donne è stata identificata una qualche forma di mutilazione genitale femminile di queste il 60% di queste mutilazioni individuate sono di tipo incisorio quindi di tipo 1 e di tipo 2 io non vi ho riportato la classificazione perché pensavo di venire dopo la dottoressa Abdul-Kadir per cui non volevo ripetere ad ogni modo secondo la classificazione dell'organizzazione mondiale della sanità su mutilazioni genitali femminili del 95 si identificano quattro tipi di mutilazioni la mutilazione di tipo 1 è la rimozione del prepuzio e o del clitoride la tipo 2 è la rimozione di prepuzio clitoride e piccole labbra ovviamente in varia misura ed eventualmente anche l'escissione delle grandi labbra la tipo 3 che è quella che tutti siamo abituati a chiamare infibulazione e la chiusura ermetica dell'ossio vaginale dopo l'amputazione di piccole labbra grandi labbra eventualmente clitoride e la tipo 4 è un po' una miscellanea di tutte le altre procedure che vengono praticate sui genitali femminili senza per motivi non terapeutici come ad esempio il piercing le mutilazioni di tipo incisore tipo 1 e tipo 2 sono quelle sicuramente più difficili da individuare infatti con tutte le casistiche mondiali riportate si riescono a riconoscere in maniera corretta solo nel 30-40% dei casi sono quelle che pongono meno problemi urgenti rispetto ad esempio alla condotta ostetrica di cui parleremo non per questo però noi li possiamo considerare minori perché sono ovviamente delle lesioni personali contro le bambine e contro le donne possono lasciare delle problematiche sanitarie non molto importanti perché abbiamo così tante donne mutilate perché sostanzialmente questa è un po' la caratteristica di Milano la maggior parte delle nostre donne provengono dall'Egitto dove abbiamo visto dalle slide precedenti dal professoressa Hortensi più del 90% delle donne subiscono una forma di mutilazione genitale per cui come potete vedere più della metà delle donne con una forma di mutilazione genitale femminile nel nostro centro proviene dall'Egitto seguita dalle donne somali e dalle donne nigeriane che appunto provengono dall'immigrazione italiana per la massima parte da edostete quindi hanno un'alta prevalenza di mutilazioni di tipo 2 l'età media è di 27 anni nel 40% dei casi queste donne sono in Italia da poco sono migrazioni recenti sono in Italia da meno di 24 mesi e come dicevamo prima la mutilazione non è un qualcosa necessariamente legato alla religione è un fattore culturale infatti come possiamo osservare se è vero che circa una donna su tre delle nostre donne mutilate e di religione musulmana ce n'è circa un terzo che è di religione cristiana quindi le ritroviamo ad esempio anche nelle donne egiziane corte che accedono al nostro servizio un altro dato interessante che poi di fatto giustifica l'importanza di andare a ricercare le mutilazioni genitali nelle donne gravide e che appunto nella metà dei casi il riconoscimento è avvenuto in gravidanza perché ovviamente le donne emigranti generalmente accedono a un servizio sanitario quando c'è un'esigenza come può essere appunto quella dei controlli prenatali la prossima per favore perché quindi gravidanza e mutilazioni genitali femminili proprio perché nella popolazione emigrante l'accesso alle cure viene in corso di gravidanza nella maggior parte dei casi anche perché per diciamo le normative italiane anche le donne in uno stato di irregolarità le donne straniere in uno stato di irregolarità in corso di gravidanza hanno accesso anche in assenza di tessera sanitaria alle cure prenatali i controlli prenatali rappresentano quindi un momento fondamentale innanzitutto per riconoscere una forma di mutilazione genitale femminile in secondo luogo per pianificare eventualmente l'intervento di reinfigurazione nelle mutilazioni di tipo terzo qualora sia necessario se renda necessario ovviamente per permettere un parto in sicurezza ci permette però di prendere in carico le donne con mutilazioni genitali femminili e disturbi fisici e psicologici ad esse correlate e soprattutto e su questo punto noi stressiamo particolarmente per prevenire la pratica nelle generazioni successive perché dobbiamo considerare che una donna gravida che accede al nostro servizio e che portatrice di una qualche forma di mutilazione genitale femminile ha circa il 50% di probabilità molto banalmente di dare alla luce una bambina e quindi noi di quella bambina ci dobbiamo occupare la prossima grazie come intervenire vabbè prendo una frase del professor Pardi del buon medico del sapere saper fare e sapere essere perché perché per spiegare bisogna conoscere quindi l'importanza della formazione degli operatori questo non lo diciamo solo noi non lo dicono solo gli addetti al lavoro lo dicono tutte le linee guida internazionali in materia di mutilazione genitale femminile gli operatori devono essere formati perché come vediamo soprattutto se le mutilazioni tipo 1 tipo 2 spesso non vengono riconosciute quindi per poterle riconoscere un adeguato numero dei casi un adeguato numero dei donne gli operatori devono essere formati e per operatori non intendiamo solo gli ostetrici ginecologi gli ostetriche e gli infermiere e infermiere ma i pediatri e le pediatre e questo sono forse tra la categoria ancora meno inclusa nei programmi di formazione le ostetriche che lavorano sulla rete consultoriale nei consultori soprattutto in regione Lombardia con il decreto del percorso in basso rischio della gravidanza le donne vengono seguite dalle ostetriche e quindi le ostetriche devono essere adeguatamente formate per poter identificare correttamente le mutilazioni genitali per spiegare bisogna farsi capire quindi l'importanza della mediazione linguistico-culturale la mediazione linguistico-culturale non è solo farsi capire da un punto di vista verbale e semantico e utilizzare appunto come dicevamo le parole corrette e avere una trasmettitrice e migliatrice di cultura che ci permette un po' di avvicinarci ad una cultura altra che in tema di mutilazioni genitali femminili noi facciamo molta fatica a comprendere ancora oggi per spiegare bisogna comprendere la diversità appunto delle culture quindi l'importanza di quello che è proprio il decentramento culturale anche in quelle situazioni in cui noi facciamo molta fatica a comprendere però come ci ha spiegato prima la professoressa Ortenzi una famiglia che decide di far subire la pratica alla propria bambina non lo fa perché è cattiva ma spesso perché non ha gli strumenti perché effettivamente pensa che quella sia la soluzione migliore per quella bambina quindi è nostro compito decentrarci rispetto ai nostri presidizi anche a volte rispetto alle nostre convinzioni per permettere di instaurarsi di un'alleanza terapeutica che poi abbiamo visto è quella che poi conduce dove vogliamo arrivare sulla prevenzione delle mutilazioni sulle generazioni successive la successiva per favore questa è un po' la nostra strategia di intervento appunto e questo è quello che poi viene riportato come vedremo in tutte le linee guida internazionali il dialogo aperto non giudicante la formazione e l'aggiornamento e mantenere il più possibile una posizione neutrale e giudicante io non dico che sia facile c'è molte nostre supervisioni che con le psicologhe rispetto a determinati casi ci sono servite anche proprio per elaborare il team contro transfer la prossima per favore ecco una cosa molto importante sulle strategie di intervento è sempre appunto iniziare con le domande aperte questo perché spesso quando parliamo di mutilazioni genitali femminili parliamo anche di donne che stanno subendo ad esempio un percorso per riconoscimento di una qualche forma di protezione internazionale che quindi subiscono più volte nel corso di questo processo una serie di interrogatori allora abituarci a partire con le domande aperte non all'interrogatorio l'anamnesi medica ci può aiutare appunto nella definizione di un'alleanza terapeutica chiedere l'opinione dei membri della famiglia rispetto alle mutilazioni questo è importante perché la donna non è la donna che decide la decisione se far subire la pratica ai propri bambini è una decisione della famiglia è una decisione in realtà neanche dei mariti ma generalmente della suocera della nonna paterna e quindi è importante anche da parte nostra cercare appunto di valutare quelle che sono le possibili pressioni e includere nel ragionamento nel percorso anche gli altri familiari dare ovviamente informazioni mediche sulle complicanze picche croniche della pratica questo sempre e non esimerci da dare informazioni sulle conseguenze legali della pratica non dobbiamo avere un atteggiamento censore da questo punto di vista la prossima per favore entriamo un po' nel merito della relazione la condotta ostetrica quando si parla di mutilazione genitali femminili devo innanzitutto dire che ovviamente i dati di letteratura tutte le tutto ciò che viene riportato oramai da più di vent'anni si basa innanzitutto su esperienze su lavori dell'Africa di 30 paesi africani massimamente coinvolti nella procedura e conseguentemente anche da un punto di vista medico e da un punto di vista ostetrico non è necessariamente poi quello come vedremo che troveremo poi nei paesi di migrazione come in Europa i lavori diciamo quelli appunto più consolidati che sono il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e altri lavori che si sono stati pubblicati sostanzialmente all'inizio del 2000 identificano come complicanze ostetriche rispetto di mutilazioni genitali femminili un aumentato rischio di taglio cesareo circa un 30% di rischio in più quindi subire un taglio cesareo un prolungamento del secondo stadio del travaglio un aumentato rischio di parto operativo sia l'intuosa che forcipe un 70% di aumentata incidenza di emorragia del postparo che è una delle complicanze ovviamente più acute più morbose soprattutto nei paesi appunto africani un aumentato rischio di episiotomia di racerazioni perineali e fistole genitali che portano complessivamente a una prolungata spedalizzazione per quanto riguarda invece il versante fetale è stato e neonatale è stato identificato un maggior rischio di morte in doterina fetale di morte neonatale perinatale un aumentato rischio di basso punteggio di acqua alla nascita e un aumentato rischio di reanimazione neonatale per i poveri interampienti insieme neonatali ovviamente tutte queste complicanze mediche sono direttamente correlate a quella che è la fibrosi conseguente all'intervento di mutilazione che provoca proprio non solo una chiusura ma anche proprio una modificazione del tessuto perineale che conseguentemente è responsabile delle competenze se noi invece andiamo invece però a vedere cosa succede nei paesi di immigrazione come l'Europa le cose un po' cambiano questo è un lavoro francese la Francia è molto attiva sulla tematica delle mutilazioni genitori femminili perché accolgono moltissime donne provenienti da paesi a tradizione mutilatoria e a tradizione infibulatoria è un lavoro del 2020 è una review è una meta-analisi che sostanzialmente analizza moltissimi lavori pubblicati sia con dati dell'Africa e dei paesi a tradizione mutilatoria sia di quello che succede in Europa quindi sostanzialmente considera i differenti setting paesi africani e paesi europei le differenti caratteristiche materne e diversi centri di assistenza e conclude che malgrado di sia un aumentato rischio nelle donne con mutilazioni genitali femminili di taglio cesareo parti operativi emorragia del postpartum se si vanno a scorporare dati africani e dati europei quello che possiamo fare è ad esempio che abbiamo sì un aumentato rischio di taglio cesareo ma solo nelle primitare questo è abbastanza intuitivo perché le donne portatrici di una mutilazione genitale femminile che hanno già partorito è difficile che abbiano una mutilazione che provochi una intensa fibrosi o una chiusura dell'osteo vaginale che impedisca il parto o ne aumenti le completanze idem il parto operativo sia conventosa che forcipe si più frequente nelle donne mutilate ma solo nei paesi africani e non in Europa perché in Europa sostanzialmente si è più attivi nel riconoscere la forma di mutilazione e nel procedere all'intervento infibulatorio qualora sia necessario per rendere sicuro il parto idem per quanto riguarda l'emorragia del postpartum dove l'aumentato rischio c'è solo nei paesi africani e non in Europa mentre è importante vedere come invece il ricorso all'episiotomia sia più frequente significativamente più frequente solo nei paesi europei e questo perché e soprattutto nei centri di riferimento perché questo ce lo dicono proprio nelle linee guida che quando si assiste un parto vaginale di una donna con una mutilazione genitale è ovviamente di terzo tipo questi sono tutti i dati che si riferiscono all'infibulazione all'abbandamento dell'infibulazione è proprio pratica assistenziale procedere più frequentemente all'episiotomia paramediana per permettere un più agevole disimpegno della testa fetale e ridurre i rischi di lacerazione rischi di lacerazione che si osservano in maniera significativa sono nelle donne di basso livello socioculturale questo sia in Europa che in Africa e questo è direttamente correlato all'accessibilità alle cure quindi alla mancanza alle cure prenatali e nei centri non formati erogatamente formati per mutilazioni genitali femminili nei paesi africani ma non in quelli europei c'è un aumentato rischio sia di aborto che di morte andeuterina mentre invece per quanto riguarda il versante neonatale si osserva una riduzione dell'acqua inferiore a 7-5 minuti lì è una tendenza positiva ma che non raggiunge la significatività questo perché sono pochi gli studi in realtà che prendono in considerazione questo parametro una prossima per favore andiamo a quelle che sono le linee guida allora le linee guida in ambito ostetrico sulle mutilazioni genitali femminili sono sostanzialmente tre sono quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità quelle del Royal College gli ostetrici e ginecologi e quelle del Royal College delle ostetriche e degli infermieri sono tutte linee guida pubblicate intorno agli anni 2000 che poi annualmente vengono revisionate quindi quelle ad esempio del Royal College sono state revisionate per l'ultima volta in agosto del 2022 in ambito ostetrico sono sicuramente linee guida universali e ancora molto attuali perché sostanzialmente come vedremo ci dicono che cosa fare in gravidanza e nel parto di una donna con motivazione ovviamente genitali di terzo tipo sono un po' meno attuali come sicuramente vedremo dopo in ambito invece ginecologico per quanto riguarda le linee guida la precedente per favore dell'organizzazione mondiale della sanità appunto è una raccomandazione di primo tipo che appunto la denfigurazione quindi l'intervento di risoluzione di una mutilazione di terzo tipo è raccomandata ed è fortemente raccomandata per le donne gravide per prevenire le possibili complicanze ostetriche al parto quindi per ridurre in maniera significativa il rischio di un taglio cesareo di un parto operativo di un'emergia del postpartum di una placerazione perineali la prossima sempre l'organizzazione mondiale della sanità ci indica quando fare l'intervento infibulatorio e sostanzialmente ci permette di poterlo programmare sia prima del parto che al momento del parto lascia quindi un campo aperto soprattutto perché appunto queste prime linee guida sono state formulate ovviamente per i paesi ad alta prevalenza di mutilazione di terzo tipo quindi paesi africani dove l'accesso alle cure prenatali non è sempre possibile quindi effettivamente la maggior parte delle infibulazioni avviene al momento del parto e non in corso di ruolanza quindi lascia aperta l'opzione rispetto al timing sull'effettuazione della procedura in base a quella che può essere la prima preferenza della donna molte donne africane anche donne africane comunque che vivono in paesi europei spesso preferiscono farlo al momento del parto anche proprio per ridurre la possibilità di stigma da parte della comunità in cui vivono si decide anche appunto in base alla facilità di accesso all'assistenza sanitaria al luogo del parto e alla formazione dell'operatore sanitario ovviamente in tutti i casi le donne e i giovani e le ragazze che sono candidati ad un intervento di infibulazione devono ricevere un'adeguata consulenza preoperatoria e l'intervento deve essere offerto in anestesia locale questo ovviamente ha delle ragioni anche di praticità che è un intervento semplice quello dei infibulatori in gravidanza in cui ci si limita sostanzialmente a incidere sulla linea mediana il tessuto cicatriziale fino ad esporre il nato eretrale e quindi può essere gestito in un setting anche ambulatoriale e l'anestesia locale è più agevole in un setting di questo tipo che ad esempio può essere appunto un setting più consono per i paesi a basso sviluppo in Europa da noi ad esempio non sempre poi si sceglie l'anestesia locale ma è soprattutto una scelta che si fa con l'eventuale sedazione in relazione a quello che è il trauma della donna a quello che è il vissuto personale per cui devo dire che anche noi che preferiamo comunque fare questi interventi in anestesia locale in casi particolari dove c'è un forte traumatismo legato un forte trauma legato all'esperienza dell'infigurazione da parte della donna con pensieri ricorrenti flashback eccetera preferiamo comunque farlo in sedazione per evitare di ottenere un trauma al trauma la prossima per favore queste invece sono le linee guida del Royal College che come vi dicevo sono state revisionate a fine agosto del 2022 sono sicuramente quelle un po' più complete quelle anche più consente un po' appunto i paesi europei partono anche in questo caso la parte iniziale tutta una parte appunto sulla formazione l'importanza della formazione degli operatori che devono appunto essere in grado tutti essere in grado ostetrici e ginecologi di identificare correttamente una mutilazione identificarne il tipo saperlo gestire da un punto di vista clinico compreso saper effettuare una defigulazione ostetrica altra cosa molto importante anche in questo caso viene centralizzato quella che è l'importanza del setting dove far avvenire la consultazione e soprattutto della presenza di mediatori di mediatrici per insomma gestire quella che è la barriera linguistica ma anche quella barriera culturale e soprattutto rimarcano il fatto che i membri della famiglia non devono essere utilizzati come interpreti perché ovviamente c'è il rischio che quella traduzione non sia una traduzione fedele ma sia mediata da quello che il marito più delle volte crede che sia il meglio della donna e quindi la censura da parte del marito la prossima per favore per quanto riguarda appunto quindi quella che è la gestione antenatale della mutilazione genitale femminile dopo averla riconosciuta dopo saperla riconoscere appunto è importantissimo che alla prima visita l'operatore chieda rispetto alla presenza alla donna rispetto alla presenza di una qualche forma di mutilazione femminile non è un qualcosa di opzionale va chiesto va ovviamente chiesto essendo rispettosi anche le differenze di cultura in maniera non stigmatizzante anche in questo caso l'azione delle mediatrici aiuta anche noi nella nostra pratica clinica effettivamente a volte intercettiamo la parola araba per definire la mutilazione tara la intercettiamo dalla mediatrice prima ancora che l'abbiamo detta perché sostanzialmente questa problematica deve emergere deve poi essere come dire sviluppata nel corso della gravidanza e deve essere adeguatamente segnalata su quella che è la cartella clinica della signora noi proprio grazie ai fondi regionali e ai fondi del ministero del pariopportunità nella nostra cartella sia ambulatoriale che di ricovero abbiamo proprio un flag legato alla presenza di mutilazione genitale sino di che tipo quando è stata fatta come è stata fatta proprio in maniera tale che quel dato emerga sempre e anche in questo caso l'importanza del supporto psicologico qualora la donna lo richieda qualora lo riteniamo importante deve essere presente ovviamente una figura di riferimento a psicologa che sia ovviamente formata in ambito trasculturale e formata sulla tematica specifica la prossima per favore la visita la visita ostetrica da linee guida anche sul basso rischio sulla che sostanzialmente si visita sempre di meno ecco prendiamoci invece il tempo quando sappiamo di essere davanti a una donna proveniente da un paese a tradizione mutilatoria che magari non ci dice che ha subito la pratica quando noi lo chiediamo vediamoci il momento della visita effettivamente per identificare la mutilazione che magari lei ha taciuto e di fronte a una mutilazione di tipo terzo per valutare se l'introito vaginale è sufficientemente ampio e neato retrale visibile e per identificare quindi quelle donne in cui un intervento di configurazione è necessario sul timing sul quando fare la procedura anche in questo caso il Royal College non si esprime in maniera univoca ovvero ci dice ovviamente che la procedura di defibrillazione nei casi in che la renda necessaria sarebbe meglio farla prima di una gravidanza o comunque prima del travaglio quindi sostanzialmente entro la ventesima settimana di gestazione anche in questo caso raccomanda come prima scelta un'anestesia locale ma apre anche alla possibilità rispetto alle preferenze della donna quello che è il setting anche clinico di poter poi procedere invece all'apertura o durante la prima fase del travaglio o al parto ci dice anche che in quelle donne in cui si rende necessario un taglio cesareo agente dobbiamo poi sempre anche valutare la possibilità di procedere dopo il cesareo a una reinfibulazione importantissimo le donne devono essere informate da subito che la reinfibulazione non è possibile dopo il parto la prossima questo è quello che sostanzialmente vi ho già detto la prossima ovviamente in tutti quei casi in cui si deve procedere a una denfibulazione durante il travaglio andremo a fare l'intervento di denfibulazione nella prima fase del travaglio nella fase dilatante in tutti quei casi in cui non è possibile procedere a un'esplorazione vaginale per quelle che sono le caratteristiche dell'ostio vaginale oppure a una catedralizzazione uretrale e quindi andremo a fare la reinfibulazione nella fase dilatante ovviamente con un'adeguata analgesia una analgesia epidurale mentre invece qualora le caratteristiche dell'ostio vaginale lo permettano si può anche poi invece procedere all'infibulazione direttamente al momento in una fase espulsiva quando la testa fetale corona sostanzialmente anche in questo caso la decisione dell'episiotomia dipende dall'ostetica e viene eseguita tutte le volte in cui i trattisti dei tessuti perineali necessari la prossima la tecnica è sostanzialmente indipendentemente dal momento in cui si fa in gravidanza la tecnica è analoga l'unica differenza quindi si incide sulla linea mediana l'unica differenza è che quando viene eseguita proprio in fase espulsiva a coronamento della testa fetale non si utilizzano le forbici cioè non si utilizza scusate i vissuri ma si utilizzano le forbici ovviamente sempre l'analgesia locale la prossima favore queste sono le linee guida invece del Royal College of Nursing che sono sostanzialmente uguali rispetto alla necessità dell'intervento di ventilazione quando farlo sono analoghe a quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità quelle del Royal College anche in questo caso l'importanza della mediazione linguistico-culturale l'importanza della visita l'importanza dell'identificazione precoce la prossima per favore anche sui timing sono assolutamente sovracconibili e anche sul ricorso all'episiotomia la prossima anche in questo caso viene stressata l'importanza di non ricorrere poi a una reinficulazione al termine del parto l'importanza di dare il supporto post natale e in questo caso in modo anche un po' anglosassone cosa fare poi con la bambina in Inghilterra c'è proprio un sistema di notifica sostanzialmente ai medici di medicina generale rispetto all'avvenuto parto di una bambina in una donna portatrice di una mutilazione genitale femminile la prossima io con questo concludo e concludo dicendovi che appunto rispetto alla tematica noi non dobbiamo abbandonare proprio quelli che sono gli interventi comunicativi attivi perché soprattutto appunto come diciamo nel processo di migrazione c'è un fisiologico e perfetto azione di meticciamento sia la donna pur con le proprie difficoltà entra in contatto con una cultura altra e quindi prende anche nuove consapevolezze e quindi dobbiamo in realtà sostenere quelli che sono proprio i buoni propositi delle madri a non raccomandare la pratica alle giovani figlie e è stato osservato anche dai nostri dati che dopo due anni di formazione delle donne ma anche degli uomini e delle comunità si ha una riduzione dei nuovi casi di mutilazione genitari femminili in quella fascia d'età 5-10 anni che è quella dove massimamente vengono poi praticate le mutilazioni nella maggior parte delle pitture grazie prof ha il microfono spento chiedo scusa ringrazio la dottoressa Lueila e se è in linea la dottoressa Jasmine ci sono molto bene molto bene quindi io la ringrazio per aver accettato il nostro invito e la prego quindi di descriverci le implicazioni ginecologiche delle mutilazioni genitali femminili prego dottoressa allora grazie dell'invito e buongiorno a tutti io parlerò oggi degli aspetti ginecologici portando l'esperienza dell'ambulatorio dedicato alla presa in carico delle bambine e delle donne con MGF dell'ospedale universitario di Ginevra dove riceviamo all'incirca fra le 250-300 appuntamenti all'anno di più di 20 paesi soprattutto dell'Africa la nostra popolazione è un pochino differente da quella che presentava la collega prima abbiamo soprattutto pazienti dell'Africa dell'Est quindi il 50-60% secondo l'anno delle nostre pazienti presentano mutilazioni genitali di tipo 3 vedremo la classificazione fra poco il nostro ambulatorio si occupa di accoglienza presa in carico inclusa la presa in carico chirurgica prevenzione ricerca divulgazione sensibilizzazione formazione perizie medico-legali e la produzione di certificati di asilo per avere un'idea però di come uno dovrebbe accogliere e discutere una paziente che possibilmente ha una mutilazione genitale femminile professionisti specializzanti ginecologi ostetriche urologi infettivologi psichiatri ed altri professionisti della salute potrebbero incontrare una paziente perché è inviata proprio per una sospetta mutilazione genitale oppure perché giunge alla nostra attenzione per altri motivi e quindi innanzitutto molto spesso si tratta semplicemente di confermare o meno se la persona che abbiamo di fronte ha avuto una mutilazione genitale quindi prima di tutto dobbiamo adattarci alla sua età ci dobbiamo adattare all'età della paziente di cui abbiamo di fronte se è una bambina un adolescente una donna quindi ottenere sempre il suo consenso e rinnovare questo consenso durante l'anamnesi e durante l'esame adattare il lettino che usiamo la posizione se la bambina è in braccio alla sua mamma il linguaggio che utilizziamo e come effettuiamo l'esame ed utilizzare sempre un approccio che in inglese viene chiamato trauma informed survivor centered quindi a garantire uno spazio sicuro la privacy anche quando utilizziamo un interprete o una mediatrice e un esame interno è raramente necessario per confermare e valutare una mutilazione genitale quindi ad esempio se esaminiamo una bambina è sufficiente fare una trazione a 45 gradi sulle labbra esterne e fare attenzione a qualcuno ha un microfono acceso e fare attenzione soprattutto alla regione del clitoride che noi stessi ginecologi molto spesso non abbiamo l'abitudine di esaminare allora un piccolo ripasso dell'anatomia della vulva e del clitoride il clitoride come ben sappiamo è l'organo embriologicamente omologo al pene e si costituisce di un glande un corpo che curva sotto la sifisi pubblica a livello del gomito o del ginocchio per poi continuare nei tessuti cavernosi che sono le crura i bulbi sono dei tessuti spongiosi i tessuti spongiosi e i tessuti cavernosi entrambi i tessuti tumescenti comunicano fra di loro attraverso dei plessi soprattutto venosi a livello della commissura e della pars intermedia la parte che viene interessata dal taglio durante la mutilazione alcune forme di mutilazione genitale è il glande più o meno una parte del corpo e molto spesso avviene anche una retrazione cicatriziale oltre ad altre complicanze che vedremo dopo che fa sì che il corpo del clitoride che palpiamo sotto la cicatrice di quelle mutilazioni che hanno comportato un'escessione del clitoride si trova molto spesso a una distanza superiore da quella fisiologica dell'uretra quindi già importante conoscere sia nel momento prepubere e post-pubere la variazione fisiologica dell'anatomia clitoridea queste sono tutte foto di vulve senza mutilazione genitale nella bambina prepubere ci può essere una sorta di fimusi clitoridea fisiologica che non va confusa con una mutilazione genitale femminile queste sono foto senza mutilazione genitale quindi nella minore quando facciamo un esame ginecologico soprattutto in caso di dubbio di mutilazione genitale bisogna fare attenzione a non confondere delle labbra interne o piccole labbra piccoline perché ancora non c'è stata estrogenizzazione e bisogna affidarsi a un esperto un ginecologo dell'infanzia un ginecologo che esamina all'anno molte pazienti eventualmente con mutilazione genitale per non fare errori e a volte anche l'esperto che lavora col pediatra o col ginecologo del pediatrico e dell'adolescenza ci possono essere dubbi o disaccordi attenzione inoltre alle diagnosi differenziali appunto di nuovo nelle pazienti prepuberi condivido alcune esperienze del nostro ambulatorio per esempio dubbi su diagnosi differenziali in caso da lesioni da grattamento in pazienti giovani con lichen scleroso traumi da caduta e soprattutto gli ultimi casi sono stati due casi in cui in realtà c'era un'epispadia quindi il pediatra che aveva esaminato la bambina proveniente da paese considerato a rischio di mutilazione genitale aveva confuso questa sorta di assenza di glande con una probabile mutilazione genitale quando in realtà vedete ci sono due emiclitoridi quindi qui stavo dicendo prima come si esano potete passare alla seguente qui ho descritto l'anatomia del clitoride e qui facevo vedere le varianti fisiologiche senza mutilazione genitale con diversi colori di pelle potete passare alla seguente ancora la seguente ecco le diagnosi differenziali ancora la seguente quindi in alto a destra è l'esempio di epispadia e in basso a destra vedete un altro esempio gli ultimi tre casi che ci hanno inviato al nostro ambulatorio erano una semplice sinechia delle piccole labbra e assolutamente non un'infibulazione frequente appunto nella bambina prepubere potete passare alla seguente allora a volte è sufficiente pensare semplicemente all'origine etnica del paziente questo è un caso un altro caso di paziente che ci hanno inviato con sospetta infibulazione già chiedendo ai genitori la loro origine etnica non semplicemente il paese quindi Senegal ma l'origine Wolof e sapendo che né il padre né la madre appartengono ad un gruppo etnico che pratica la mutilazione genitale questo ci può aiutare nella nostra riflessione diagnostica il piccolo orifizio poi vedete che è verso il perineo anteriore e non verso la forchetta questo anche ci può aiutare a capire che non è un'infibulazione ma quando si ha un dubbio basta dare il trattamento estrogenico locale vedete come questa bambina evolve nelle due settimane nel mese successivo con un'anatomia completamente fisiologica a livello delle labbra del prepuzio e del glande la prossima quindi innanzitutto pensare ai paesi questo avete visto durante la prima presentazione conoscere i paesi ad alta bassa prevalenza avere un'idea sul fatto che ci sono differenze fra i diversi gruppi etnici cominciare dall'anamnesi sapere chiedere prima ancora di esaminare soprattutto perché ci sono dei tipi difficili da riconoscere e delle diagnosi differenziali che vanno anche riconosciute perché vanno anche trattate spiegate se la mutilazione genitale viene confermata a quel punto si tratterà di capire se la paziente è sintomatica se è cosciente del suo sintomo del legame fra il sintomo e eventualmente la mutilazione genitale o se il sintomo è dovuto ad altre patologie o ad altre condizioni e poi valutare se c'è un'indicazione a un trattamento medico chirurgico psicosessuale eccetera potete anche incontrare pazienti in cui dovete riferire la paziente per una perizia medico legale oppure per un certificato di asilo la prossima allora questa è una pubblicazione dove le foto sono disponibili e sono diffuse col consenso delle pazienti la prossima vediamo brevemente la classificazione come diceva la collega l'organizzazione mondiale della sanità ha descritto una classificazione nel 1995 l'ha aggiornata nel 2007 e ancora finalmente l'anno scorso finalmente ha corretto il termine famoso di clitoridectomia non esiste la clitoridectomia in caso di mutilazione genitale femminile il primo tipo consiste nell'ablazione parziale o totale del prepuzio sia un tipo 1A e del glande o parte del corpo del clitori del tipo 1B sono tipi a volte difficili da vedere soprattutto se uno non guarda la vulva non guarda la zona clitoridea a volte si può avere un'impressione di piccola simmetria a livello del prepuzio si possono intravedere delle piccole aderenze fra il prepuzio e il glande il tipo 2 invece è l'escissione quindi l'escissione delle labbra interne il tipo 2A delle labbra interne e del clitoride il tipo 2B delle labbra interne esterne e del clitoride il tipo 2C ci sono delle varianti poi che si trovano fra due tipi o sottotipi per esempio a volte può essere solamente il prepuzio che è stato toccato ma anche le labbra interne ed esterne è vero che questa classificazione ci serve a volte per descrivere senza necessariamente coprire tutte le varianti esistenti la seguente e poi c'è l'infibulazione seguente l'infibulazione è la chiusura del vestibolo quindi della copertura attraverso un ponte cicatrizziale dell'orifizio vaginale del meato urinario con o senza escissione del clitoride il clitoride può essere o meno escisso e quindi può essere o meno ritrovato intatto quando si fa la deinfibulazione o a volte anche parzialmente intatto l'infibulazione anche può essere variabile potete avere come vedete in alto dei ponti cicatrizziali più fini più spessi a volte sono le piccole e le grandi labbra entrambe che sono state suturate l'orifizio residuale può essere più o meno grande anche in base al fatto se la paziente è già sessualmente attiva o meno e a volte ci possono essere diversi orifizi e questo causa molti sintomi urinari alle pazienti che si lamentano a volte di un'urina a pioggia per esempio le popolazioni musulmane questa è una delle ragioni di decisione di venire all'ambulatorio per il fatto di doversi spesso lavare prima della preghiera perché durante la minzione questa urina esce a pioggia e bagna per esempio le gambe la seguente e infine il tipo 4 il tipo 4 include tutti i tipi che non sono inclusi nei primi tre compreso il piercing vista questa definizione che ormai è abbastanza oggetto di dibattito la definizione attuale di mutilazione genitale visto che include tutte le modificazioni non terapeutiche senza parlare di età di consenso di genere esattamente eccetera però questo è un altro argomento bisogna fare attenzione quando abbiamo un'analisi di una paziente che ci dice sì ho avuto una mutilazione genitale ma già il pomeriggio stesso oppure il giorno dopo giocavo con le mie amiche non ho avuto tanto male sono guarita rapidamente perché sono tipi anche qua difficili da vedere il pricking e il nicking cioè l'incisione o la scarificazione del prepuzio oppure del labbro esterno come vedete in queste foto se uno non guarda attentamente può non vederli a volte non sono visibili perché la cicatrice non è visibile esiste poi anche lo stretching delle piccole labbra nella nostra esperienza abbiamo poche pazienti perché non è una popolazione numerosa a Ginevra sono pratiche che esistono nella regione dei grandi laghi quindi Zimbabwe Burundi in certi confini del Congo in Rwanda in cui si pratica uno stretching delle labbra interne fino ad avere delle labbra di dimensioni considerevoli e le credenze dietro a queste extrapratiche sono completamente diverse rispetto alle credenze verso le pratiche riduttive si pensa infatti che allungando queste labbra si aumenti la capacità di soddisfarsi sessualmente sia per la donna sia per il suo eventuale partner futuro la seguente esistono poi delle variazioni interpersonali nella stessa persona questo è solo un esempio di questa paziente per esempio a fine gravidanza nel terzo trimestre con delle varici vulvarie prima della deinfibulazione e il controllo otto settimane dopo dopo una deinfibulazione parziale un paziente che voleva un'apertura minima che esponesse solo il meato urinario e la risoluzione delle sue varici quindi la stessa paziente anche durante l'anamnesi ci può dire sì prima ero chiusa poi ho partorito non sono più chiusa quindi la mutilazione è un fenomeno che può cambiare durante la vita della paziente seguente abbiamo visto che alcuni tipi di mutilazione includono un'escissione del clitoride altri no quando c'è un'escissione del clitoride vedete qui a sinistra una foto una risonanza magnetica e una ricostruzione tridimensionale che è stata fatta non in abito diagnostico ma in ambito di ricerca quindi una ricostruzione 3D dell'anatomia clitoridea senza e con mutilazione genitale che ha l'escissione del clitoride come dicevo prima vedete che c'è questa parte visibile del glande più o meno una parte del corpo che manca con questa retrazione cicatriziale la seguente una cosa importante perché tra un pochino parleremo della ricostruzione del clitoride è che il glande è comunque una struttura peculiare una struttura su cui ancora non ci sono moltissimi studi istologici anatomici eccetera si sa che è una sorta di struttura con una sorta di tessuto spongioso un po' diverso da quello dei bulbi che è ricco di alcuni recettori specifici che esistono solo sul glande per cui anche quando si fa un intervento come viene chiamato di ricostruzione oppure di rigenerazione di neurotizzazione del clitoride questi recettori se sono stati tagliati in realtà non ci sono più non possiamo ricostruirli ancora forse ci saranno delle modifiche in futuro nuovi risultati di ricerche seguente i trattamenti in caso di complicanze sono trattamenti chirurgici e non chirurgici i trattamenti non chirurgici includono innanzitutto l'accoglienza l'informazione e un'educazione alla salute l'esplorazione dei miti delle credenze che la paziente ha sulla sua anatomia sulla sua fisiologia sulla maniera in cui per esempio fa pipì sulle sue mestruazioni sulla risposta sessuale perché tante sono le credenze che pervadono le differenze culture e le differenti pazienti naturalmente la rieducazione del pavimento pelvico la terapia psicosessuale il trattamento lo screening e il trattamento di altri traumi passati terapia cognitivo comportamentale terapia di coppia eccetera quindi tutti i trattamenti che noi già conosciamo per trattare altre condizioni anche senza mutilazione genitale i trattamenti chirurgici includono la deinfibulazione il trattamento delle complicanze di cicatrici e la cosiddetta ricostruzione del clitoride il trattamento delle complicanze di cicatrici include il trattamento di eventuali chieloidi di eventuali cisti sono soprattutto cisti epidermoidi che molto spesso sono asintomatiche diventano sintomatiche quando raggiungono dimensioni considerevoli quando iniziano ad infiammarsi a fare ascessi recidivanti attenzione perché molto spesso vediamo quando il paziente arriva in ambulatorio specialistico e ci racconta di avere avuto 3, 4, 5 drenaggi di ascessi paraclitoridei senza che nessuno le abbia proposto una cistectomia che è quello che risolverà i suoi sintomi di ascessi recidivanti briglie cicatriziali che possono essere sintomatiche quando si mettono sotto tensione durante i rapporti penetrativi la fimose del clitoride anche questa nella nostra esperienza è una forma di complicanza a volte causa questo accumulo di smegma con pseudocisti infiammazione pazienti che iniziano a soffrire di clitorodimia e molto spesso quando vengono esaminati la risposta è sì ma è una mutilazione minima ancora il clitoride è palpabile probabilmente intatto sotto questa cicatrice la correzione della fimose può risolvere molti sintomi della paziente la seguente quindi le complicanze come già è stato detto precedentemente esistono complicanze immediate e tardive noi nei paesi cosiddetti della diaspora vediamo le complicanze tardive non vediamo l'emorragia lo shock l'infezione la ritenzione urinaria acuta vediamo eventuali complicanze infettive mestruali queste complicanze della cicatrice soprattutto associate ai tipi 2 e ai tipi 3 facendo una parentesi nel senso che ci sono pochi studi ancora sulle complicanze dei tipi 4 e tipi 1 o un particolare tipo 1A complicanze psicosessuali sociali ed economiche la maggior parte di queste complicanze è dovuta all'ostacolo meccanico che il ponte di infibulazione fa se incontrate pazienti che riferiscono dei dolori neuropatici a livello del clitoride quindi allodimie dolori spontanei provocati sensazioni di scariche elettriche va sospettato il neurinoma del clitoride alcuni pazienti all'istologia abbiamo trovato neurinomi o anche granulomi da corpo estraneo sull'antico filo ancora presente nella cicatrice utilizzato durante l'infibulazione seguente molte sono i pazienti che soffrono di dolori che siano dolori provocati spontanei di spareonia come tutti i dolori in ginecologia in caso di mutilazione genitale nel trattamento vanno considerati i fattori biologici i fattori psicologici socioculturali relazionali muscolari insomma tutti i fattori che contribuiscono al dolore cronico della paziente allora visto che ho 30 minuti a disposizione io mi concentrerò sui fattori biologici specifici della mutilazione genitale quindi se una paziente ha una infibulazione la denfibulazione può risolvere per esempio la disparionia la penetrazione difficile gli sforzi menzionali cronici che la paziente fa con sintomi a volte di vescica iperattiva queste fissure recidivanti a livello della commissura ma a volte la denfibulazione non è sufficiente questi dolori cronici questa penetrazione difficile in cui la paziente ha tentato di avere rapporti per anni e anni poi avrà bisogno anche di una riducazione del perineo per esempio possiamo trattare le briglie la fimosi del clitoride come dicevo le cisti le cisti bisogna fare attenzione a volte quando sono asintomatiche e rimuoviamo la cisti è molto importante spiegare nel periodo preoperatorio la paziente dove il clitoride si trova se la cisti lo copre perché durante i rapporti la cisti può comprimere il clitoride e facilitare la sua stimolazione quindi facilitare l'orgasmo dopo quando la cisti non c'è più è importante spiegare alla paziente e al partner eventualmente o alla partner come stimolare il clitoride che rimane che non è assolutamente stato asportato dopo la cistectomia sono poi pazienti come abbiamo visto nella presentazione precedente che sono a rischio di trauma ostetrico che sono molto spesso pazienti moltipare grosse moltipare quindi anche qua ci serviamo dell'arsenale terapeutico che conosciamo chirurgico e non chirurgico senza poi dimenticare come dicevo prima i fattori psicologici socioculturali e relazionali e anche come la paziente che abbiamo di fronte reagisce al dolore esistono reazioni diverse al dolore che la paziente riferisce una reazione di resistenza di evitamento poi dei rapporti sessuali oppure di banalizzazione dicendo sì questo è normale tutta mia mamma le mie sorelle hanno gli stessi sintomi e a volte gli elementi culturali si mescolano per cui quando si propone un trattamento anche semplicemente una deinfibulazione tutto questo va tenuto in conto seguente la stessa cosa per la promozione della salute psicosessuale tutti i fattori che contribuiscono alla salute psicosessuale della nostra paziente vanno presi in conto avendo una conoscenza delle specificità della mutilazione dei tipi e dei sottotipi delle mutilazioni genitali femminili seguente quando facciamo una deinfibulazione l'abbiamo visto prima la deinfibulazione è veramente la promozione della salute della donna infibulata è un intervento che si può fare durante la gravidanza in travaglio si può fare in ogni momento della vita della bambina o della donna per quanto riguarda le bambine non c'è ancora consensus nelle linee guida gli esperti soprattutto del Regno Unito che hanno più esperienza di lunga data su questa popolazione raccomandano di aspettare se la paziente è asintomatica l'estrogenizzazione degli organi genitali e un'età a cui la bambina può capire che cos'è l'intervento come si fanno le cure locali eccetera quindi raccomandano intorno ai 15 anni ma quando la bambina è sintomatica la infibulazione può essere effettuata ad ogni età nella vita di una donna può essere appunto fatta al momento del suo matrimonio quando comincia i rapporti sessuali in casi di sintomi in casi quando ce lo domanda e così via e seguente la tecnica è una tecnica semplice tutte le ostetriche e i ginecologi soprattutto che lavorano in sala parto l'abbiamo visto dovrebbero saper fare una infibulazione le accortezze sono quelle di fare attenzione a non ledere l'uretra e in qualche caso il clitoride soprattutto se ci sono delle aderenze e non avere timore a scoprire il clitoride se la paziente è d'accordo perché quando si lascia questa fimosi questa pellolina che copre il clitoride rivediamo i pazienti a distanza del parto che hanno ripreso l'attività sessuale molto spesso si lamentano di feritine recidivanti su questa pelle che rimane smegma che si accumula dietro questo ponte cicatriziale seguente questo è un altro atlantino che abbiamo fatto per i nostri specializzanti per imparare a fare il counseling e a eseguire una infibulazione seguente questo magari ci proviamo dopo il video ecco come dicevo abbiamo visto che è un intervento di per sé semplice che si può fare in anestesia locale locoregionale generale come ci diceva prima la collega ma questo cambiamento semplice che avviene in 10-15 minuti che per noi è logico per la paziente è un cambio enorme immaginate cambiare in 10-15 minuti la vostra anatomia il colore che vedete vedete per la prima volta il rosso o il rosa delle mucose la maniera di fare i pipì di avere rapporti di vedere le perdite vaginali e cambiare appunto in 10-15 minuti moltissimi valori associati all'infibulazione i geni ortali chiusi sono considerati in molti gruppi etnici come i geni ortali puliti sexy più belli fare i pipì piano senza fare rumore goccia a goccia è considerato femminile educato fare i pipì velocemente con rumore è considerato olgare maschile e molto spesso se la paziente non è ancora sposata l'infibulazione è associata alla virginità prematrimoniale che ha un valore in molte culture delle pazienti che incontriamo quindi ci può essere il timore non solo di perdere una garanzia di sposarsi ma di una garanzia di buon matrimonio anche dal punto di vista economico quindi l'accompagnamento preoperatorio deve esplorare gli eventuali timori le credenze e apportare le spiegazioni che la paziente ci richiede ci sono anche pazienti spontaneamente che vengono e chiedono l'infibulazione ma incontrerete anche pazienti che anche di fronte a sintomi genitorinari importanti a una penetrazione impossibile a volte rifiutano questo trattamento e impiegano mesi settimane il tempo necessario per prendere la loro decisione seguente questo è un altro video che potete guardare e utilizzare con le vostre pazienti è un cartone animato che abbiamo fatto insieme a moltissimi altri colleghi di altri ambulatori specialistici in Europa che spiega è stato fatto in più con le persone che hanno vissuto l'esperienza di infibulazione che spiega come l'intervento si svolge e che consiste e quello che cambia è il fatto che è una scelta personale seguente concluderò la presentazione parlando della ricostruzione del clitoride che è una chirurgia che è stata descritta nella letteratura per la prima volta in Egitto nel 2003 e poi da Foldes che è considerato il padre di questa chirurgia un urologo nel 2004 nonostante siano passati vent'anni purtroppo ancora non ci sono studi multicentrici ci sono solamente studi unicentrici e recentemente un interesse crescente anche da parte dei chirurghi plastici e regenerativi che apportano le loro conoscenze le loro esperienze le loro tecniche in un campo che era più esplorato e discusso nella letteratura prima da Foldes che era un urologo e dai ginecologi quello che si sa dagli studi presenti fino ad oggi è che è una tecnica che può migliorare la funzione sessuale l'immagine corporea può ridurre il dolore clitorideo la risparmia provocata a livello del clitoride la ragione principale della richiesta di questa ricostruzione in realtà però non è tanto la risoluzione eventuale sintomo doloroso ma più un desiderio di riparazione di riparazione della persona di ottenere indietro qualcuno l'ha già detto prima tra le mie colleghe di ottenere indietro qualcosa che è stato tolto senza chiedere permesso e quindi queste dimensioni della chirurgia fanno sì che sia necessaria una presa in carico multidisciplinare in associazione al trattamento chirurgico quello che si sa è che quando si toglie la cicatrice si libera il clitoride per vari motivi che vedremo più tardi il dolore se presente può essere trattato seguente ancora un'altra volta allora mentre prima si parlava di ricostruzione del clitoride quindi Foldes quello che aveva descritto era di resecare una parte della cicatrice andare a cercare il corpo clitorideo sezionare il legamento sospensore rispettando il peduncolo vascolo nervoso e quindi riesporre tirare questo clitoride in una posizione più visibile e accessibile dopo aver tolto la fibrosi che ritrovava col tempo altri chirurghi ginecologi poi plastici rigenerativi hanno iniziato a parlare di trasposizione altri di riesposizione adesso di rigenerazione recentemente si parla di neurotizzazione del clitoride seguente e nel tempo ormai anche se le linee guida fino ad oggi non raccomandano ancora la ricostruzione del clitoride come un trattamento di routine perché non ci sono gli studi per poterlo fare anzi l'OMS nel manuale del 2018 almeno considera che si possa effettuare associata a una presa in carico multidisciplinare seguente ad oggi esistono moltissime tecniche che sono tutte piccole modificazioni della tecnica di Foldes tranne appunto alcuni chirurghi come i chirurghi plastici di Barcellona propongono per esempio di prendere un piccolo lembo della mucosa vaginale o della mucosa buccale per coprire questo clitoride risposto che potrà cicatrizzarsi più rapidamente alcuni plastici egiziani hanno descritto un flap col piccolo labbro e poi il dottor Odei di Aquisgrana ha descritto un'altra tecnica che è una tecnica in cui ricostruisce anche le labbra interne con un flap preso dalle pieghe inguinali con un'arteria perforante che viene dall'arteria otturatoria e la liberazione del clitoride è simile a quella dell'urologo Foldes ma va a cercare con tecniche di microchirurgia i nervi dorsali e se non arrivano alla punta del glande la seguente li rimpianta in modo che arrivino fino alla superficie dell'organo la sua chirurgia è una chirurgia lunga economicamente demanding post-operatorio complesso ad oggi la tecnica di Foldes ormai si è diffusa è riproducibile ci sono varie anche se non sono studi di buona qualità dal punto di vista metodologico ormai si sa che le complicazioni sono rare sono di solito banali e gestibili la tecnica di Odee non è ancora praticata in vari setting e purtroppo ancora non c'è stata una valutazione che ha confrontato per esempio le diverse tecniche seguente allora si sa che nella cicatrice a volte ci sono questi neurinomi che non sempre sono responsabili di dolore seguente quello che si sa quindi che le indicazioni alla ricostruzione sono variabili trattare il dolore migliorare la risposta sessuale migliorare l'immagine corporea l'identità di genere desiderio di riparazione ed è molto interessante seguente andare a vedere gli studi non medici ma degli antropologi e dei sociologi che hanno fatto studi qualitativi su il perché le donne richiedono questa ricostruzione come vedete sia nello studio fatto in Francia che nello studio fatto in Svezia i temi che escono sono soprattutto una restituzione simbolica una riparazione il desiderio di riparare uno stigma visibile allora nella nostra esperienza noi facciamo la ricostruzione dal 2013 seguente succede una cosa simile a quello che poi mostro ancora poi torniamo indietro ancora la seguente quello che succede con questi colleghi francesi quando si spiega alla donna la sua anatomia la donna scopre per la prima volta che è ancora un clitoride lo tocca per la prima volta il partner capisce anche molte cose della risposta sessuale della partner si va a cercare altri traumi passati che sono presenti nella nostra esperienza almeno nel 40% della nostra popolazione quindi stupi matrimoni forzati abusi durante la guerra separazioni familiari perdite familiari quando si cura la persona non solo gli organi genitali molto spesso le donne alla fine non vanno incontro alla chirurgia la loro sessualità il loro benessere psicofisico si migliora così altre donne invece desiderano la chirurgia e in quelle donne l'outcome della chirurgia è molto positivo torniamo un attimo indietro questi colleghi del Belgio che hanno anche loro un ambulatorio dedicato ai pazienti con mutilazione genitale hanno descritto qualitativamente il primo autore e un'antropologa il percorso di due donne che alla fine non fanno la chirurgia vedete questa è una citazione la donna dice io penso che non sono normale non sono come le altre donne ho piacere durante la mia sessualità godo molto durante la mia sessualità ma nello sguardo degli altri Belgio siamo c'è sempre qualcosa che manca quindi vedete la necessità di non solo della tecnica chirurgica ma dell'accompagnamento della paziente seguente due volte quindi quello che noi facciamo con la paziente viene in ambulatorio lavoriamo sempre con un colposcopio se la sala di colposcopio è occupata con uno specchio mostriamo l'anatomia il 99% dei pazienti chiede di vedere i propri genitali lavoriamo con disegni schemi seguente e dei modellini 3D che abbiamo stampato sul clitoride con e senza escessione precedente un attimo e informiamo sulla chirurgia facciamo vedere le foto o i disegni della vulva non escissa della vulva escissa della vulva ricostruita tra virgolette con questa ricostruzione del clitoride e soprattutto di come cambia questo clitoride durante il periodo post-operatorio all'inizio è rosso non ancora la pelle si sgonfierà diminuerà di dimensioni in queste culture molto spesso si pensa che se il clitoride non viene tagliato per esempio un organo grande come un micropene quindi molto spesso le attese della paziente sono di vedere un organo di due o tre centimetri molto spesso nell'immaginario nonostante la migrazione e la cultura che si mescola con quella del paese di origine e quella del paese ospite si pensa che se il clitoride non è stato tagliato una donna ha un desiderio sessuale esplosivo che può avere un orgasmo due orgasmi immediatamente quindi tutti questi miti queste credenze queste attese vanno esplorate nel periodo preoperatorio e poi come giustamente diceva la collega precedente valutare i fattori di rischio di reazioni da stress acuta e di sindrome da stress post-traumatico perché esperienze dolorose anche un dolore post-operatorio semplice controllabile con gli antidolorifici può causare una ricaduta di una sindrome da stress post-traumatico nella nostra esperienza operiamo il 30% delle richieste iniziali e l'equipe è formata da un ginecologo che opera la paziente un'ostetrica entrambe siamo formate in sessologia e una psicologa sessuologa che ha una formazione del trauma seguente ancora quindi concludo facendo l'esempio di questa paziente che ha avuto una ricostruzione con un'infezione banale post-operatoria trattata con del metronidazolo il dolore post-operatorio non ha preso tutti gli antidolorifici prescritti il dolore post-operatorio si è ricordata della sua mutilazione con una vera e propria sindrome da stress post-traumatico che ha necessitato un trattamento farmacologico e il trattamento del follow-up dello psichiatra per tre mesi quando l'abbiamo chiesto a cose risolte quando stava bene aveva ripreso i rapporti era molto soddisfatta dell'outcome chirurgico le abbiamo chiesto se nonostante questo periodo post-operatorio così difficile avrebbe rifatto l'intervento ha detto sì non solo sto meglio ma per me la cosa più bella è stata scendere dall'aereo ricostruita quando sono rientrata in Burkino Faso è stata come se dessi uno schiaffo a tutti quindi vedete la dimensioni psicologiche e simboliche di questo intervento seguente questa è un'emissione che ha fatto recentemente il telegiornale svizzero ad ottobre la paziente conclude la sua intervista chiamando l'intervento la sua rinascita seguente paziente in questo caso con un alva dolori quindi in conclusione i trattamenti ci sono è importante riconoscere la mutilazione riconoscere se ci sono complicazioni offrire un'informazione rispettosa senza pregiudizi consapevole e professionale alle pazienti riconoscere che c'è una diversità di tipi di conseguenze di bisogni quindi e quindi cominciare dall'accoglienza dalla prevenzione dalla cura e focalizzarsi sulla persona non solo sui genitali e sulla mutilazione dimenticando tutto il resto e soprattutto offrire alla paziente un'informazione totale sulle sue possibilità in modo tale che possa scegliere fra i trattamenti disponibili grazie ah sì scusate questo è un atlante che abbiamo fatto che può essere utile a chi è presente perché contiene molte delle immagini che avete visto il risultato di più di dieci anni di lavoro di tantissimi colleghi con foto con tanti colori di pelle età pre e post pubere può essere utile a chi ne ha bisogno dottoressa abduzgadir veramente grazie per questa presentazione illuminante apriamo alle apriamo alle domande e credo che ci siano diverse domande dai nostri da chi è in linea se non sbaglio abbiamo una domanda del dottor Romagnoli obblighi medico-legali per il medico che rileva nell'attività esiti riconducibili a mutilazione genitale femminile obblighi di referto allora il referto giudiziario vale per il libero professionista per chi opera all'interno di strutture del servizio sanitario pubblico o convenzionato con esso si chiama tecnicamente rapporto denuncia e la comunicazione serve ovviamente se la persona viene già avviata come nei casi che noi vediamo in ambulatorio per le vittime di violenza e tortura delle popolazioni migranti viene già avviata per esempio dalla prefettura ovviamente è già in sé la comunicazione all'autorità giudiziaria la questione si può porre quando la persona ceda spontaneamente al servizio sanitario e quindi se non è stata ancora resa nota questa circostanza sia ai riferimenti della diciamo struttura sanitaria in termini di denuncia sanitaria sia in termini di comunicazione ancorché non ci sia ovviamente la possibilità di individuare l'autore questa comunicazione secondo legge è perentoria e mi riconduco a questo aspetto riagganciandomi anche alle veramente interessantissime complete e assai formative relazioni che ho ascoltato la dottoressa Barbara Griella quando nell'ambito del colloquio ha atteso a sottolineare che non può il componente i membri della famiglia essere considerati nella veste di mediatori ma ovviamente questo dico sa va san dire e oltretutto per le prospettive di rilievo medico-legali inficerebbero l'intimità di questa visita di questa relazione oltretutto va sempre chiesto ancorché si presenti magari la paziente la donna con un soggetto accompagnatore se ritiene che questo soggetto possa essere presente e assistere alla visita questo indipendentemente dal contesto specifico del quale ci stiamo occupando nel contesto nel quale ci occupiamo ovviamente la domanda è perentoria incisiva e all'esordio proprio della comunicazione per cui la figura del mediatore diventa indispensabile è stato poi toccato il punto della comprensione ovviamente anche al fine di evitare lo stigma nei confronti della donna come elemento vulnerante mi trovo assolutamente concorde ci mancherebbe altro ma comprendere per arrivare a spiegare non significa giustificare quindi la comprensione ai fini poi di attivare il processo comunicativo come correttamente è stato sottolineato la legge 219 consenso informato e disposizione anticipata di trattamento si applica in tutti i contesti dunque anche in questo contesto nel nostro paese significa comprendere per spiegare ma dinanzi a quelli che sono gli elementi tecnici nei quali la legge ci riconduce bisogna anche spiegare la violazione del diritto alla donna quindi comprendere per spiegare non è giustificare ma la collega la dottoressa è stata chiarissima su questo punto e come sul punto è stata chiarissima dell'alleanza terapeutica che alla fine l'unico momento di validazione insieme al percorso comunicativo dell'unico momento di validazione del consenso che altrimenti si risolve in un adempimento burocratico ma la legge 219 è chiara su questo punto e ormai abbiamo questa piena consapevolezza non è questo che ci si richiede di fare l'ultimo passaggio molto delicato è quello del minore ovviamente anche la dottoressa Bulcadir ha sottolineato nei vari suoi passaggi anche noi utilizziamo la fraud position quando valutiamo le minori le bambinette anche la posizione in braccio della visita in braccio alla mamma mi è stata utilissima non soltanto con popolazioni straniere ma anche diciamo con popolazioni autoctone e quindi è qualcosa che anche agli specializzanti alle professioni sanitarie anche ai medici magari con meno esperienza noi sottolineiamo spesso come un momento di grande conforto e di grande utilità ovviamente noi tecnicamente non possiamo parlare per la minore di consenso perché legalmente non può esprimere consenso ma deve esprimere una volontà e questa volontà può essere espressa in senso positivo o in senso negativo ma sempre deve essere espressa e la diciamo la legge recuperando il codice di odontologia del medico e recuperando le indicazioni che già dal 92 il comitato nazionale di biotico ha espresso l'informazione la comunicazione si modulano in riferimento all'età del minore quindi questo diventa una cosa particolarmente rilevante e credo così di avere raccolto e risposto a tutti i punti che mi venivano sia dalla domanda specifica sia dalle sollecitazioni delle altre relazioni abbiamo un'altra domanda della dottoressa Sghedoni anche le donne non infibulate ma provenienti dai paesi ad alto tasso di infibulazione possono essere considerate rifugiate per tale motivo allora per questo motivo no e ritorniamo nuovamente sul supporto alla persona quando la dottoressa Grela ha parlato di una di un'impostazione del team che si occupa della valutazione con inizialmente con le domande aperte c'è proprio un tempo di un tempo nel quale la persona dà la sua disponibilità questo tempo può essere abbastanza lungo solitamente abbastanza lungo e quanto più la persona viene da una storia di abuso tanto più ha bisogno del tempo ci sono casi in cui anche semplicemente avendo già piena cognizione della mutilazione e veniva già con l'indicazione a questa visita a questa attività certificativa è solo al terzo momento di incontro che si arrivava alla possibilità di una valutazione diagnostica per rispondere alla domanda no se solo per questo se proviene da un'area geografica a rischio ma non ha diciamo non ha subito fortunatamente la motivazione non per questo può essere considerato elemento persona suscettibile di forma specifica di tutela ovviamente altri elementi nella storia della persona prima del momento per esempio per le popolazioni solzariane prima del momento per esempio di una detenzione in Libia potranno essere indicative per esempio fattori di fuga da situazioni anche per soggetti giovani maschi e femmine potranno essere indicativi per esempio di una necessità di forma specifica di tutela anche correlate all'area sessuale per esempio nel nostro ambulatorio c'è la questione dei giovani maschi che manifestino ma giovani veramente giovani i grandi minori 16 a 17 18 anni che provengono da paesi anche nordafricani che manifestando un'attitudine di sessualità rivolta diciamo all'omosessualità sono vittime di pregiudizio e vittime di violenze familiari e questa è diciamo una quota crescente di abusi che noi osserviamo grazie l'ultima domanda è della dottoressa Mastellari che chiede eventuali contatti per inviare le pazienti per una valutazione se le avete magari volete scriverle nei commenti in modo tale che rimangano indicati per tutti i partecipanti questo invito è per chi? è un invito per i relatori quindi se avete dei contatti sì certamente per la dottoressa Dulcadir sarà un po' difficile per noi colleghi italiani ma possiamo anche ricordare che sia a San Paolo sia in Mangiagalli a Milano ci sono possibilità di consulenza ed eventualmente di correzione nel nostro ospedale grazie all'attività del dottor Brambilla ottimo chirurgo plastico che si occupa anche di ginecoplastica e veramente ha degli ottimi successi in questo senso se non ci sono più altre domande visto un po' il il tempo che è veramente passato via molto velocemente e non ce ne siamo neanche accorti data la bravura delle nostre relatrici di oggi vorrei fare un alcune domande flash alle relatrici e più un commento generale finale una la prima domanda flash è per la professoressa Hortensi dai dati presentati capisco che soltanto una donna su tre sembra effettivamente decisamente contraria alla pratica delle mutilazioni genitali femminili questo è un dato che mi ha molto sorpreso ha presentato una tabella con i dati relativi a una survey effettuata tra donne se ho capito bene che avevano subito una mutilazione genitale femminile c'è un commento su questo dunque in realtà la survey era fatta su tutte le donne su tutte allora peggio ancora su tutte le donne no però una è circa il 20% al 2016 era d'accordo con la continuazione della pratica però c'è un abisso tra chi è stata chi l'ha subita e chi non l'ha subita chi l'ha subita tende a essere molto più favorevole quasi nessuno è favorevole alla continuazione della pratica tra chi non l'ha subita magari si si può molte magari dicono che ci sono delle ragioni per cui avrebbe senso farlo ma non non per questo supportano la pratica c'è comunque un riconoscimento di alcune ragioni per cui la pratica ha un suo perché anche da parte delle donne non mutilate tipicamente questioni culturali questioni di valori questioni religiose però è quasi essenzialmente una questione che ha che fare il rischio ha che fare solo per le bambine intendo il rischio per le figlie di donne con mutilazioni genitali femminili il supporto è molto maggiore e c'è anche un'area grigia di persone che non supportano e non ostacolano con tutti questi distingo ma di fatto rimane che in questa survey solo una donna su tre è decisamente contraria alla continuazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili poi ci sono molte spiegazioni certamente questo però il commento adesso il dottor Liberani si è dovuto scollegare purtroppo però ci ha chiesto di riportare questo commento che leggo testualmente a proposito degli aspetti legali avrei voluto specificare riportando quanto scritte la dottoressa Barbara Caputo dell'Università Bicocca di Milano di come l'evento migrazione possa spingere proprio per la messa in discussione dell'ordine delle cose ad aderire con più forza a modelli familiari al fine di salvaguardare il proprio orizzonte di senso le donne che originano da comunità dove le mutilazioni genitali sono la norma vivono in un contesto nella quale la pratica è vista come un aspetto importante della vista anche dopo l'immigrazione in questo senso la legge consulo la seconda parte della legge rappresenta nel panorama normativo italiano ed internazionale un mezzo di difesa e prevenzione perché prevede la promozione di programmi di cooperazione internazionale direttamente con i paesi interessati senza oneri da parte dello Stato con questa legge l'ordinamento giuridico italiano si è dotato di uno strumento non solo repressivo ma necessario e utile per creare una nuova cultura di diritti un nuovo modo di entrare nella comunità bene ringraziamo il dottor Liberani e ringraziamo le nostre relatrici di oggi che veramente con grande piacere ci hanno fatto fare tardi perché hanno fatto delle relazioni così interessanti così complete su un argomento che su cui alcuni di noi hanno informazioni parziali quindi veramente davvero davvero grazie mi segnalano che anche oggi abbiamo toccato quasi 200 persone che ci hanno seguito quindi è stata un'ottima cosa e ricordiamo che tra due giorni ci sarà la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili ne approfitto per darvi appuntamento a sabato prossimo il tema del prossimo webinar del Magicali Giornal Club sarà tra le righe del DNA fetale evidenze scientifiche e incertezze cliniche e avremo il piacere di ospitare come relatori il professor Volpe da Bari il professor Gianluigi Pilo da Bologna dall'Università di Bologna una giornata che è una classe frutta molto l'Università di Bologna e il nostro Nicola Persico associato dell'Università di Milano che saranno moderati da Federica Natacci dalla professoressa Natacci che è professoressa di Genetica Medica all'Università degli Studi di Milano quindi grazie molte a tutti grazie alla nostra Camilla Carlotta e Agnese e ci diamo appuntamento a sabato prossimo come sempre puntuali alle ore 10 buon weekend a sabato prossimo all'università